Buongiorno, buongiorno Buongiorno a tutti, benvenuti a Consulencia, Consulencia 2024 Grazie di essere con noi in questa splendida sala Anche quest'anno Consulencia si conferma l'appuntamento più importante Per il mondo della consulenza, per la professione del futuro E questa mattinata la plenaria è sempre il momento centrale Il momento in cui si confrontano le idee, si scrive l'agenda per il futuro dell'industria e della professione Mettendo a confronto tutti gli stakeholder e partner con cui lavorate le idee per il futuro Lo faremo tra qualche istante, la mattinata sarà divisa in due parti Dopo la relazione del presidente Luigi Conte in apertura Avremo un confronto con le voci della politica Il governo, il Parlamento, le forze sociali, le istituzioni di mercato Avremo anche due incursioni invece che ci porteranno di nuovo nel mondo della tecnologia L'intelligenza artificiale con cui abbiamo aperto ieri Ma anche lo scenario geopolitico che avrà un fortissimo impatto sulla situazione economica Questo è un anno speciale, lo sapete quanto sono cambiate in breve tempo Le condizioni finanziarie, i trend della raccolta Il grande tema dei tassi di interesse Ma non solo, pensate, l'anno scorso Questi erano i giorni di Silicon Valley Bank, di Credit Suisse, chi non li ricorda Invece oggi arriviamo a consulenza con dei mercati Che sono in questo momento in grande forma, in buona salute Ma staremo a vedere, parleremo anche di quello Nella seconda parte saranno poi i vertici leader delle reti, delle grandi reti A raccontare e spiegare quelle che sono oggi le loro priorità Anche per voi e per il vostro lavoro Ma quest'anno Anasf ha messo al centro anche di questo evento Una campagna di promozione che ha raccontato il vostro mondo attraverso questo spot Da più di 40 anni Anasf connette i consulenti finanziari italiani Ogni giorno sosteniamo e rappresentiamo un network di oltre 12.000 professionisti del risparmio Anne e Marco ci hanno scelto come i loro consulenti per affiancarli nelle decisioni finanziarie In Anasf, crediamo nelle connessioni Anasf, associazione nazionale consulenti finanziari Marco, ma il nostro consulente è iscritto ad Anasf? Certo Dai, torna a dormire Ah È uno spot che è stato molto visto, molto commentato Questo è prima di dare la parola al presidente per la sua relazione d'apertura Io vi leggo il messaggio che è arrivato dal ministro del lavoro e delle politiche sociale Marina Calderoni Che si rivolge a voi così Gentile presidente Conte, gentile consulenti finanziari Anche a nome per conto del presidente del Consiglio e del Governo Sono a porvi i miei saluti istituzionali Per il convegno che aprite È il principale appuntamento per il mondo della consulenza finanziaria Nonostante, scrive Calderoni Gli impegni istituzionali già presi mi impediscano di essere con voi La mia attenzione corrisponde alla sensibilità che il Governo pone alla vostra funzione Al vostro ruolo importante per il lavoro, l'economia e il risparmio degli italiani Il vostro ruolo, dice il ministro del lavoro È innanzitutto un ruolo di sentinella dell'economia Far comprendere l'impatto dell'andamento dei mercati È fondamentale per chi fa investimenti Per gli operatori economici e per il mondo del risparmio Esiste un tema di grande rilievo Che sottopongo alla vostra riflessione come una priorità Cioè la necessità di promuovere un'educazione, una cultura finanziaria A tutela di quel risparmio investito che è determinante per la salute Non solo del sistema finanziario Ma più in generale per la sicurezza delle famiglie italiane Famiglie, scrive il ministro Che continuano a detenere asset finanziari significativi Ben superiori al nostro debito pubblico Asset che vanno tutelati dalla speculazione da scelte sbagliate In questi mesi, continua il ministro Calderoni Ci sono stati dati confortanti Che smentiscono troppe avventate Forse strumentali considerazioni Apparse nei mesi scorsi Che non si sono avverate Il nostro paese esce dalla pandemia Con una ripresa del PIL Superiore alla media europea E un contenimento dell'inflazione E dei costi dell'energia Che in questi mesi sta sostenendo la ripresa economica Il nostro spread, osserva il ministro È sotto controllo Mi rendo conto che una foresta che cresce Faccia meno rumore di un albero che cade Ma credo che il mondo che voi rappresentiate Debba aiutare a diffondere una serie corretta informazione Che allontani gli speculatori dalle manovre Contro il risparmio gestito e tutele l'economia italiana Non ci sfuggono, scrive ancora il ministro I problemi ma vanno inquadrati nel contesto generale Colti nella giusta dimensione Senza forzature o peggio fake news Nei vostri approfondimenti Affrontate altri temi chiave Come la longevity economy Le conseguenze sul lavoro Sull'economia Sulla finanza Dell'allungamento della vita attiva Un tema chiave che abbiamo posto al centro degli argomenti Che stiamo affrontando Nella presidenza italiana del G7 Che comporta prodotti e servizi Anche finanziari di tipo innovativo Gli over 60 sono pure in Italia Un motore della crescita e degli investimenti finanziari Che generano una grossa fetta di consumi E' un tema, dice il ministro, davvero importante Che intendiamo prendere in considerazione Anche come governo Al tempo stesso viviamo una fase di passaggio generazionale Che si esprime nel lavoro In particolare auspico Un'attenzione del mondo della finanza Anche nel dirottare forme di sostegno E fondi mirati Alla voglia di fare di intraprendere Nelle nuove generazioni Come un'attenzione all'educazione finanziaria Che riguarda non solo il risparmio Ma anche l'uso delle agevolazioni E degli investimenti Per le nostre start-up Adeguare il risparmio gestito E la consulenza finanziaria E il passaggio generazionale in corso In questi anni Implica un approccio nuovo Dice il ministro La sfida del cambiamento è ampio raggio Riguarda la sostenibilità L'innovazione La produttività E il risparmio energetico La capacità economica Reale di un paese Torna a costituire il riferimento Per l'andamento dei mercati Ma questo non ripare il risparmiatore Dalle insidie Dai prodotti speculativi E a forte rischio Necessita una consapevolezza diffusa Che richiede alla consulenza finanziaria Una forte assunzione di ruolo E di responsabilità Come ministro conclude Conosco bene i dati Delle assunzioni nel vostro settore E delle prospettive di crescita Di una funzione Sempre più incisiva Come donna Sono particolarmente attenta Come il settore finanziario E assicurativo Costituisca ormai da anni Uno dei settori più inclusivi Delle nostre giovani laureate Anche per questi motivi Che riguardano qualità E tutela del risparmio Dei lavoratori E dei pensionati Che l'andamento del mercato Che mi sta più a cuore Ossia il mercato del lavoro Vi porgo i migliori auguri Per il vostro importante evento Il ministro del lavoro Maria Elvira Calderone Dopo il saluto del governo La parola al presidente di Anast Luigi Conte Buongiorno Benvenuti e benvenute All'undicesima edizione di Consulenza Prima di avviare i lavori Di questa giornata Desidero ringraziare sentitamente Le colleghe e i colleghi Le autorità, i partner E tutti i nostri ospiti Lo scorso anno Abbiamo focalizzato L'attenzione Sull'importanza Di stringere un patto di valore Tra i protagonisti Dello scenario socio-economico Si parlava di famiglie Organizzazioni Istituzioni e imprese Questo patto di valore È volto a realizzare Iniziative concrete Finalizzate Alla crescita del nostro settore E allo sviluppo del paese stesso Anasf ha fornito il suo contributo Nell'ambito di una serie di iniziative Di atti Che in particolare Nel corso dell'ultimo anno Hanno portato Al raggiungimento Di risultati tangibili In questo processo Riteniamo che le chiave Dei traguardi conseguiti Risieda nella comprensione Nel rispetto del concetto di alterità L'alterità è il carattere Di ciò che è O si presenta come altro O non identico E che presuppone Un'interazione tra ego e alter In totale contrapposizione Al concetto di diversità Che pone invece Una netta frattura Tra le diverse prospettive E quindi possiamo fermamente Sostenere che il nostro approccio Non è divisivo Bensì distintivo In quanto ripudia La conflittualità esclusiva Propria della diversità Prediligendo invece La comunicazione E lo scambio con l'altro E' proprio a valle Di questo ciclo virtuoso Che si compiono Quei processi evolutivi Che orientano le comunità Ben oltre La deriva dell'omologazione Ed è in tale contesto Che l'associazione Ha operato Con l'intento Di prediligere La compartecipazione E promuovere Lo scambio E la comunicazione Tra le parti in gioco La prova regina Dell'efficacia Di questo approccio E' la continua evoluzione Del settore Ottenuta grazie All'operato Di tutti i protagonisti Riferibili ad esso Tra cui la stessa ANAS Va sempre più calata Nel ruolo Di interlocutore attivo E concreto Capace Di interagire Nella sfera istituzionale Con l'obiettivo Di indirizzare I processi decisionali Secondo gli interessi Della categoria Ma soprattutto Dei risparmiatori Il motore Del progresso Tecnologico E' da sempre Alimentato Dalla volontà Di automatizzare Mansioni E processi Consentendo Una riallocazione Di tempo E risorse intellettive Verso attività Maggiormente produttive Per mettere a fuoco I vantaggi E le sfide Che sorgono Dall'integrazione Della tecnologia Infatti il rapporto Fiduciario E simpatetico Che si crea Tra professionista E risparmiatore Fondamento Del servizio Di consulenza Non è replicabile Artificialmente Rimane l'elemento Distintivo Insostituibile Della consulenza Umana Diciamo Da subito L'impatto Delle stesse Sull'operatività Dei risparmiatori E della categoria E trasformando Le nuove sfide In opportunità La prestazione Di servizio Propria Della consulenza Finanziaria Che coniuga Automazione digitale E interazione Umana Può rappresentare Un eccezionale Driver Per favorire A vari livelli I progetti Di educazione Finanziaria Sempre più Numerosi Ed ambiziosi Proprio ieri Nel convegno Di apertura Un'ora con Con il professor Floridi E la pianista Vacatello Abbiamo voluto Dare il via A questa edizione Di consulenza Stimolando Ciascuno di noi In merito Ai concetti Di etica Dell'intelligenza Artificiale E di umanesimo Digitale Nella chiara Rappresentazione Del talento Che si estrinseca Attraverso La mediazione Di energia Estro Emozioni Intime E condivise A riprova Della nostra Attenzione Sul tema Nel corso Degli ultimi Anni L'associazione Ha partecipato A numerose Consultazioni Nazionali Ed europee Che hanno Indacato Sulle implicazioni Dell'intelligenza Artificiale Della digitalizzazione Dei servizi Finanziari Ultima In ordine Di tempo Quella conclusa La scorsa Settimana Da ESMA Autorità Europea Degli strumenti Finanziari Dei mercati Daremo Ancora Il nostro Contributo Partecipando A breve All'audizione Dell'undicesima Commissione Lavoro Della Camera E i deputati Nell'ambito Dell'indagine Conoscitiva Sul rapporto Tra intelligenza Artificiale E mondo Del lavoro In questo Processo Evolutivo Del settore ANASF Consapevole Dell'importanza Della conoscenza Della materia Ha deciso Di sostenere I professionisti Del risparmio Dando loro La possibilità Di acquisire Competenze Strutturate Sull'intelligenza Artificiale Generativa E sulle sue Applicazioni In campo Finanziario Attraverso Lo specifico Corso Di alta Formazione Progettato In collaborazione Con Talent Garden Siamo sempre Pionieri Quando si tratta Di contribuire Alla formazione Dei nostri associati E con questo Impegno Affrontiamo Ancora una volta Un tema Di grande Attenzione E di utilità Per lo sviluppo Della professione Negli ultimi Quattro anni L'associazione Ha registrato Oltre 2.000 Novi iscritti Di cui Circa Un terzo Under 40 Numeri In crescita Ed in Controtendenza Rispetto all'andamento Della professione Stessa Che purtroppo Risente Del problema Demografico Proprio come Accade In altri Settori Parallelamente Però Le relazioni Annuali Di OCF Di OCF Evidenziano Da tempo Un processo Di consolidamento Della categoria Dei consulenti Finanziari Abilitati All'offerta Fuorisede Diminuiscono I professionisti Non operativi E aumentano Gli iscritti In attività Pari a Oltre 35.000 A fine Gennaio 2024 L'ultima Rilevazione Sottolinea Anche Una crescita Di professionisti Under 40 Che si attestano Al 13.9% Del totale A fine 2023 L'innazzalmento Dell'età media In questa professione Dai 40 anni Del 2002 Ai 52 anni Circa Dell'anno Appena trascorso Può E deve essere visto Come un'opportunità Di confronto Tra più Generazioni L'incremento Della speranza Di vita Alla nascita Determina L'aumento Del tempo Di permanenza Del mondo Del lavoro Per rispondere A questo cambiamento Noi consulenti finanziari Crediamo Nella funzionalità Dei team professionali Fondati sull'integrazione Tra l'esperienza Dei consulenti più anziani E la visione Prospettica Dei giovani Per offrire ai risparmiatori Una maggiore garanzia Di solidità Ed efficienza Della prestazione Consulenziale Il ricambio Generazionale Nella professione Va inteso E concepito Come interazione Generazionale Evolvendo quindi La prospettiva In cui ci poniamo Tra i longevi consulenti finanziari E i giovani di talento Si può E si deve Creare Un ponte Generazionale Che porti A produrre valore Attraverso l'interazione E non il ricambio In un processo Di collaborazione Sinergica E virtuosa Rispetto al tema Generazionale Nel 2019 È stato istituito Il comitato nazionale Hans Giovani Quest'anno Il gruppo di lavoro Hans Silver Ed è allo studio Un progetto Che favorisca Il triocinio curricolare Per favorire L'ingresso Della professione Dei giovani studenti Riserviamo loro Due borse di studio Ed organizziamo incontri Nei principali atenei Per avvicinarli All'attività Abbiamo altresì Rilevato Una crescita Delle professioniste Che hanno scelto Di intraprendere L'attività Di consulenza Finanziaria La percentuale Di donne Sul totale Degli iscritti All'albo CF È passata Dal 16.5% Del 2022 Al 22.8 Del 2023 Inoltre Il numero Di consulenti Finanziari Associata ad Anast È cresciuto Costantemente Negli ultimi due anni Più 4% Del 2022 Contro una crescita Nulla Per quanto riguarda Le consulenti Iscritte All'albo Di OCF E più 3% Nel 2023 Contro un 2.6 Delle consulenti Iscritte All'albo Quest'ottimo risultato È senza dubbio Ascrivibile Anche all'impegno Profuso Dall'associazione Nell'organizzare Iniziative E attività Sui temi Delle pari opportunità E del contrasto Al divario di genere Sul territorio Crediamo Che l'interazione Tra i professionisti E le professioniste A prescindere Da genere Ed età Sia un valore Aggiunto In la nostra categoria L'obiettivo Che ha sempre mosso L'associazione È stato quello Di superare La logica Che parla Di divario di genere Solo come un gap Da colmare Riteniamo Che si debba Invece Enfatizzare Anche qui Il concetto Di alterità Esprimendo Con forza Prospettiva Distintiva Delle donne Della professione Con questa finalità Abbiamo realizzato Una serie di progetti Grazie al contributo E alla dedizione Di tutti i dirigenti Anasf Rispetto al tema Di genere È stata altresì Prevista Un'area Nel comitato Esecutivo Anasf Dedicata Alle pari opportunità Anzi Parliamo Ancora di più Del valore Delle pari opportunità Oltre che Un'apposita commissione Sulle tematiche Di genere Ed è stato Istituito il progetto Consulenza Sostantivo Femminile Realizzata La decima edizione Della borsa Di studio Anas JP Morgan Asset Management Dedicata Per la prima volta Esclusivamente Alle neuro Consulenti finanziari Under 30 E inoltre In progettazione Una nuova ricerca Dell'associazione Volta a valorizzare Il contributo Delle consulenti Finanziarie Allo sviluppo Del mercato In termini di qualità Di cui Vi parleremo domani Attraverso Il nuovo studio Auspichiamo Di comprendere In quali situazioni Le consulenti Non concilino Agevolmente Ed efficacemente La propria attività Professionale Con quella personale Esplorando altresì Come il carico Di lavoro Familiare E di cura Che ricade Principalmente Sulle donne Impatti Sullo svolgimento Della professione Sulla soddisfazione Lavorativa E come alcune Variabili Di carattere sociale Istituzionale Influenzino L'operato Della categoria Un altro Obiettivo Centrale Di ANASF È il rafforzamento Del posizionamento Dell'associazione Nel contesto Politico Istituzionale Come portatori Di interessi Di una categoria Professionale Strategica Per il tessuto Economico E sociale Del paese Anche alla luce Del rinnovato E continuo Interesse Per le tematiche Connesse alla gestione Del risparmio Delle famiglie Delle imprese Alla crescita Culturale E di orientamento Alla responsabilità Dei cittadini A partire dagli investimenti In economia reale Numerose Sono state Le consultazioni E le audizioni Poste in essere Dell'associazione Stessa Con l'obiettivo Di far ascoltare La voce Dei colleghi Ma soprattutto Dei cittadini Ai tavoli istituzionali Grazie Dal punto di vista Normativo Sono molti Gli obiettivi Raggiunti Sia in ambito Legislativo Europeo Che in quello Nazionale Grazie Al contributo Di Anas Ne sono Un esempio Il DDL Capitali Sul tema Della promozione Dell'educazione Finanziaria E della canalizzazione Risparmio Delle famiglie Italiane Verso L'economia Reale La riforma Fiscale Per una maggiore Razionalizzazione Rispetto Alla tassazione Dei redditi Di dittatura Finanziaria E delle persone Fisiche Alla disciplina Del reddito D'impresa Tema Che noi Viviamo Come un problema Quotidianamente Da anni Oramai Il disegno Di legge Competitività Che inserisce L'educazione Finanziaria Nell'insegnamento L'educazione Civica La strategia Degli investitori Retail La RIS Per garantire Sufficienti Tutele Ai consumatori Agli investitori E incoraggiare Risultati Di mercato Migliori E più equi Infine Va menzionato L'accordo In trilogo Sul regolamento Del European Single Access Point ESAP Che renderà Più semplice Per gli investitori Prendere le loro Decisioni Di investimento Sono stati Inoltre Numerosi Gli eventi Svolti Sul territorio Dagli associati Per l'accrescimento Della cultura Finanziaria Dei cittadini E la diffusione Della professione Negli ultimi Dieci anni Il patrimonio Dei clienti Investito Risparmio Gestito Attraverso Le reti Dei consulenti È quasi Raddoppiato In termini nominali Secondo Un'elaborazione Del nostro Centro Studi E Ricerche Partendo Dallati Assoreti I consulenti Finanziari Sono diventati Un punto Di riferimento Per un'ampia Gamma Di bisogni E una guida Per la crescita Del benessere Economico Finanziario Delle famiglie Delle aziende Italiane Sono circa 5 milioni Gli italiani Che già conoscono Il valore Della consulenza Finanziaria Hanno scelto Di affidarsi A noi Nella definizione Dei tempi E risorse Per raggiungere I propri obiettivi È necessario Prendere coscienza Sin da giovani Del valore Del risparmio Degli italiani Un asset Fondamentale E strategico Della nazione Che va protetto E valorizzato Per la crescita Del paese stesso Per innovare E realizzare Progetti di sviluppo Infatti Occorre investire E il nostro paese Detiene la più consistente Massa di risparmio Privato In ambito europeo Crediamo quindi Che l'Italia Possa Anzi Debba Trainare Il piano di sviluppo Dell'Unione europea Noi consulenti finanziari Offriamo agli investitori E ai risparmiatori Un'alternativa credibile Al debito pubblico Sostenendo anche Attraverso il risparmio gestito Mercati Ed economia reale Un lavoro Che svolgiamo Da decenni Con milioni Di investitori privati Orientando i loro risparmi Verso soluzioni Capaci di coniugare La ricerca Di un sano rendimento Prospettico Il controllo del rischio E il sostegno All'economia L'idea di rappresentare Un potenziale piano Di sviluppo Attraverso una serie Di attività Va realizzata In un contesto Formale Corretto Di regole Chiare Un quadro Normativo Trasparente Che definisca Obiettivi Strumenti E funzioni Incentiverebbe Altresì I cittadini A destinare Parte del proprio Risparmio Ad una finalità Virtuosa Di sostegno All'economia reale Le soluzioni di investimento Proposte dai consulenti Finanziari Esaltano La dimensione Dell'incremento Del valore Della produzione Più che L'incremento Del valore Del reddito Da debito Il risparmio Può e deve essere Il nuovo motore Che potrà Consentire Sì alle imprese Italiane Di rafforzare Il proprio peso Specifico Anche Al fine Di evidenziare I modelli Di talento Che sono Affermati A vari livelli L'accrescimento Dell'educazione Finanziaria Della cittadinanza Rappresenta Sicuramente Una delle leve Su cui agire Per far Comprendere L'importanza Del risparmio Quale asset Strategico E per veicolarlo Verso l'economia Reale Un booster Fondamentale Per la crescita Socio-economica Del nostro Amato paese Per fare questo È di fondamentale Importanza Che sia sempre Più riconoscibile E tangibile Sul mercato La figura Del consulente Finanziario Perché assista I risparmiatori In tutte le fasi Del ciclo di vita A questo punto Vi invito Allora A seguire Gli interventi Dei nostri Prestigiosi ospiti Che ringrazio ancora Che porteranno Spunti Di riflessione Ad ognuno Di noi Vi invito Anche a seguire I convegni Di domani Che saranno dedicati Ai temi Dell'educazione Finanziaria Dell'interazione Generazionale E del sostegno Alle politiche Di genere In questi giorni Condivideremo Come sempre Conoscenze Esperienze E' un altro Evidenziato Dallo spot Sempre più Autorevole E matura Consulenzia E' il momento In cui Questa unità Si manifesta In modo tangibile In cui Dimostriamo Che siamo E saremo In prima fila Pronti a sostenere Il paese Nella sua crescita Economica E culturale Lo facciamo Da quasi Mezzo secolo Svolgendo La nostra Attività Quotidiana Con dedizione Cura E passione Autorevoli Interpreti Di ciò Che disse Il grande Enzo Ferrari La passione Non si può Descrivere La si può Solo Vivere Grazie Grazie Presidente Conte Grazie Per aver introdotto I nostri lavori Ma resti sul palco Con noi Perché adesso Io vi presento Subito I protagonisti Della conversazione Del confronto Che avremo adesso Su queste idee Su quello che conta Di più per voi Per la vostra professione Arrivano dal mondo politico Anche dal Parlamento Oggi si vota Quindi li ringraziamo Anche di avere trovato Il tempo Di essere qui In una giornata particolare Abbiamo l'onorevole Maurizio Casasco Che è presidente Della commissione parlamentare Di vigilanza Sulla anagrafe tributaria Ed è responsabile Economico di Forza Italia Abbiamo Federico Cornelli Che è commissario Della Consob Patrizia De Luise Che è presidente Di Confesercenti L'avvocato Federico Freni Che è sottosegretario Del ministero dell'economia E delle finanze Benvenuto E poi abbiamo Fabio Massoli Che è direttore finanza Amministrazione e controllo Di cassa depositi E prestiti L'onorevole Marco Snato Che è presidente Della sesta commissione finanze Della camera dei deputati Responsabile economico Di fratelli d'Italia Ecco che si compone Il nostro palco Ma come vi anticipavo Beh ci sono anche Per iniziare Questa che è una discussione Che potrebbe essere molto interna Non possiamo trascurare Quello che succede fuori Dal mondo Dell'industria del risparmio E allora abbiamo due incursori Abbiamo detto noi Li metteremo un po' Sulle fasce Per lanciare dei cross Che potremo colpire tutti Di testa Con le loro idee E anche con le loro esperienze Qui in sala con noi C'è Paolo Magri Che è vicepresidente esecutivo Di ISPI Che ringrazio e saluto Uno dei più grandi esperti italiani Di geopolitica Dei scenari internazionali Ben arrivato Paolo E all'altra E non è la prima volta È già stato con noi Anche in questi anni Ci ha accompagnato E invece Possiamo dire Dall'altra parte del campo Perché è in collegamento Quest'oggi con noi Eccolo qui Benvenuto a padre Paolo Benanti Grazie di essere con noi Padre Benanti Un saluto Sapete che padre Benanti È uno dei più grandi esperti italiani Di intelligenza artificiale Delle sue implicazioni etiche Di fatto ha coniato Il termine algoretica L'etica degli algoritmi È l'unico italiano Che è appena stato nominato Da pochi mesi All'interno della commissione Delle Nazioni Unite Per stilare delle linee guida Sull'impiego Dell'intelligenza artificiale Presiede anche La commissione governativa Sull'intelligenza artificiale E padre Benanti Grazie ancora di essere con noi Beh noi abbiamo sentito parlare molto Abbiamo aperto anche ieri Con questo tema Dell'intelligenza artificiale C'è grande interesse Nelle domande Che io ho ricevuto ieri Quando ne abbiamo parlato Con un filosofo Luciano Floridi Beh l'interesse è prevalentemente Su quello che potrà cambiare Per quanto riguarda Il loro lavoro I rischi Molti vedono un rischio E la percezione di un rischio Di un pericolo Attorno alla velocità Con cui avanza L'intelligenza artificiale Forse si fa un po' più fatica A vedere i lati positivi Perché sta arrivando Un grande salto tecnologico Che ci potrà aiutare A fare anche meglio I nostri lavori Lei come la vede Padre Benanti? Beh buongiorno innanzitutto E grazie per darmi la possibilità Di essere con voi Per essere realisti Dobbiamo dire che Sessantamila anni fa Quando abitavamo ancora All'interno delle caverne E c'è stata data in mano Una clava Quello era un utensile Fantastico Per aumentare la nostra produttività Aprivamo più Noci di cocco Ahimè È stata anche un'arma Molto efficace Per aprire più crani E l'innovazione Da sempre sostanzialmente Ha un effetto Che è un effetto duplice Può essere utilizzata In una maniera Che contribuisce A quello che possiamo chiamare Il bene comune O una maniera Che di fatto Ne è un problema Ma allora La domanda non è Sull'artefatto tecnologico in sé Ma sul suo impatto Su un contesto sociale Su come Rimanendo più aderenti A quello che è Lo specifico Di questa associazione Su come poter preparare E formare Quelli che sono I professionisti del settore A non subire Una trasformazione Ma di fatto A guidare Allora è evidente Che uno strumento Che possa tenere insieme Tantissimi dati E tantissimi elementi Sia una sorta di grande Telescopio Che consente al professionista Di vedere prima Quello che sta per succedere O di individuare cose Che altrimenti Non sarebbero visibili Il vero tema È se noi vogliamo Utilizzare L'intelligenza artificiale Come un competitor Dell'uomo E quindi Machina Sapiens Versus Homo Sapiens O se invece Vogliamo utilizzare L'intelligenza artificiale Come un'alleata Dell'uomo E allora in questo caso Non sarà L'intelligenza artificiale Che farà scomparire Il consulente Ma sarà il consulente Che usa bene L'intelligenza artificiale Che ahimè E' chiaro E' chiaro che come noi Impostiamo questa relazione In questi anni Sarà quello che rimarrà In futuro Di questa professione Allora padre Benanti In una battuta E qui il mondo È alla ricerca Anche Innanzitutto La ringraziamo Per avere personalizzato Anche la sua visione Molto chiara Sul mondo Della consulenza Il mondo È alla ricerca Anche di regole Per far funzionare L'intelligenza artificiale L'Europa Appena approvato L'AI act Stiamo andando Nella direzione giusto Che cosa servirebbe Secondo lei Ma guardi Io prendo sul serio La provocazione Che alcuni dicono Che noi mettiamo Le regole L'arbitro Prima di mettere La squadra in campo In realtà Io temo Che ci sia qualcuno Che non ha capito Qual è il gioco A cui giochiamo Quando alcuni anni fa Abbiamo sviluppato L'automobile Che era uno strumento Che andava Molto più veloce Dell'uomo Abbiamo avuto La bisogno Di fare il codice Della strada Non per coartare La nostra libertà Cioè voglio dire La Ferrari è venuta fuori Pure se avevamo Il codice della strada Anzi forse Grazie al codice Della strada Ma per evitare Che ci fossero incidenti Tra l'uomo e la macchina Allora L'AI act In questa sua Funzione Di grande guardrail Di cintura Di sicurezza A favore dell'umano Non è qualcosa Che vuole bloccare La nostra libertà Ma che vuole tutelare La nostra dignità Che vuole tutelare Quella cosa più preziosa Che abbiamo Come cittadini Come consumatori Come persone Che abitano in Europa Ahimè c'è una lettura Molto strumentale Che quando uno Senta parlare di regole Pensa che sia Semplicemente Un non fare L'AI act In questione In realtà Va nell'altra direzione Ci dà Quel guardrail Quelle targhe Quelle patenti Che servono Per far sì Che la nostra libertà Possa eseguirsi Possa darsi Evitando incidenti Allora grazie ancora Padre Benanti Per aver confermato Questa sua visione E averla portata Anche alla nostra platea Sappiamo che è molto impegnato Questa mattina La lasciamo Ai suoi impegni Buon lavoro E a presto Grazie di cuore E buon proseguimento Paolo Magri Padre Benanti Ha parlato del telescopio Io la inviterei a usare Come dire Due strumenti Il binocolo da una parte Per guardare oltre Quello che è la cronaca Che purtroppo la geopolitica Che significa guerra In questo momento Ci costringe A guardare tutti i giorni Sulle prime pagine dei giornali Guardare un po' Come il mondo potrà essere Dopo queste crisi Cioè oltre queste crisi E poi un altro strumento Che è il grandangolo Sapete quegli obiettivi Che aiutano ad allargare Un po' la visione Perché la nostra visione È molto concentrata oggi Gaza L'orrore La devastazione L'Ucraina Quello che sta accadendo Ma il mondo è più largo di così Partiamo dall'Europa Guardiamo oltre È stata citata Dalla relazione del presidente Paolo Magri Diciamo subito Che è l'anno elettorale Se ne parla tantissimo E ci sono le elezioni europee E le elezioni europee Molto probabilmente Anche il Corriere oggi Presenta un sondaggio Non saranno una rivoluzione Cioè Si voterà È un voto importante Se non succede qualcosa Di drammatico E ovviamente Tutti tocchiamo legno Le elezioni Ci consegneranno Una maggioranza Simile a quella Che ha governato L'Europa in questi anni Un'erosione Un pochino Della maggioranza Di popolari Di socialisti E del Renew Il partito di Macron Ma la vediamo da anni Ma non ci sarà Una vittoria Dei partiti euroscettici Che governano Un paese In particolare L'Ungheria Ma potrebbero vincere Altre elezioni Ma il Parlamento Che è una delle tre istituzioni Non cambierà molto Certo si voterà Quest'anno L'anno prossimo In alcuni paesi europei Che potrebbero avere Dei governi Più euroscettici Che poi esprimeranno Commissari magari Ma non grande rivoluzione Il punto è che la rivoluzione L'Europa l'ha già fatta In positivo Durante il covid Quante cose ha cambiato L'Europa Durante il covid Facendo cose Che non faceva prima A cominciare Dal debito comune L'abbandono Del patto di stabilità Nex E tutto ciò Che abbiamo visto E la rivoluzione Che c'è già stata Ci dovrà essere Perché il mondo È cambiato Noi siamo in un mondo Con una Russia Che è nemica Una Cina Che non è più amica E un'America Che non sappiamo Cosa sarà E l'Europa Deve posizionarsi In questo mondo E cosa vuol dire Posizionarsi In modo molto concreto Vuol dire Spendere una barcata Di miliardi Perché l'Europa Deve fare Politica di difesa Deve affrontare L'autonomia strategica Industriale E per fare capire Quando si parla Di soldi Una stima Che abbiamo fatto Noi dell'ISPI Si avverranno 180 miliardi All'anno Chissà capire Se 180 Sono pochi o tanti Sono tantissimi Perché 180 È il bilancio Annuale Attuale Dell'Unione Europea Vuol dire Che l'Europa Per essere competitiva In questo mondo Deve investire Ogni anno Il bilancio Che ora investe Annualmente E che ogni anno Aumenta Dello 0,0001 Ma la grande sfida Uso qui Il grande binocolo La grande sfida Per l'Europa È diventare One Io Vi racconto In 30 secondi Voglio lasciarvi Con questa immagine Sono tornato Da pochissimo Dall'India Il gigante Dove tutti vanno Tutti vanno Inginocchiati A sostituire l'India Con la Cina A investire Tutto L'India E in India L'ospite d'onore Di questa grande conferenza Lo scorso anno È stata la nostra Meloni Che fece una grandissima Figura positiva Quest'anno Era Mitsotakis Il primo ministro della Grecia Voi immaginatevi Questa scena Mitsotakis È alto così E parlava con Modi Che è alto Molto meno Come me E hanno fatto Questa presentazione Parlando a fianco Uno all'altro E tutta la conversazione Era noi I nostri due paesi Coopereranno Abbiamo una storia antica Siamo uguali Coopereremo Ma noi cosa? Mitsotakis Ha Governo un paese Che è 8 milioni di abitanti Cioè un quartiere Di Nuova Delhi E dall'altra parte C'era il piccolo Modi Che governa Un miliardo e mezzo Di persone Con un'economia Che sta crescendo E quindi Loro dicevano Oui insieme Ma in realtà Mitsotakis Stava svendendo I porti Che aveva venduto I cinesi Che adesso vende Agli indiani Ecco Se noi Signori Andiamo in ordine Sparso Noi saremo sempre minuscoli Nei confronti Di questi giganti Rilascio con questa riflessione Pensate La nostra Europa Che ha 27 stati 27 stati Ma non siamo federali Quindi va La von der Leyen Michel Poi va Macron Poi va Scholz Poi va la Meloni Poi va il Mitsotakis A bussare alle porte Dall'altra parte Hai Brasile Stato federale Grande come l'Europa 27-28 stati Però c'è Lula L'India Stato federale 27-28 stati C'è Modi L'America Stato federale 50 stati C'è Biden Ci sarà Trump E noi siamo E dall'altra parte Abbiamo la Cina e la Russia Stati centralizzati Autarchici Dove uno comanda E tutti gli altri seguono Andiamocelo con queste immagini Il futuro dell'Europa E la rivoluzione È essere one Poter andare a questi incontri Poter andare da Mitsotakis Rappresentando tutti i porti d'Europa E non svendendo il porto del Pireo Che avevo venduto due anni prima Alla Cina È un tema che meriterebbe tutta una plenaria Questo Naturalmente quando ha citato le elezioni europee Qui mi ha innescato i politici Ma non vogliamo parlare di quello oggi Però Lei ha citato l'India In una battuta Perché sapete quanto Sui mercati finanziari Nel mondo del risparmio Beh la Cina ha sofferto parecchio Negli ultimi anni Adesso dà qualche segnale di ripresa Ma l'India viene vista come Come dire La Cina di vent'anni fa Che ha dato enormi soddisfazioni Anche agli investitori Lei che è appena rientrato dall'India Ha questa sensazione È fondata questa idea Mai parlare di corda in casa di impiccato Quindi dare giudizi sui mercati Davanti a voi Non mi permettere mai Io sommessamente Sommessamente dico Che adesso tutti stanno correndo sull'India Non è che fra qualche anno Ci sarà un po' una bolla India Perché è vero È un paese delle mille promesse Però è un paese che ha ancora delle fragilità Dove c'è un governo che sta diventando molto centralizzato Quindi io non faccio il vostro mestiere Mi permetto di dire Adelante con judizio Allora grazie anche di questa osservazione Ci sono analisi diverse Molti sono ottimisti oggi sull'India Ma anche qui non è il nostro tema Perché Avvocato Freni Bentornato a Consulenza Un piacere di averla anche quest'anno Intanto qui si lavora al futuro del risparmio L'impiego del risparmio privato Per lo sviluppo dell'economia Peraltro lei questa mattina Parlando proprio qui allo studio di Classi Invi si ha anticipato Che qualcosa si sta muovendo Che state pensando anche dei nuovi strumenti Mica penserà che posso dirgli qua No scherzo Diciamo che Ipotizzando che Tutto l'armamentario Sia una pentola che so bolle Noi aggiungiamo ingredienti Via via che riteniamo necessario Dare a questo meraviglioso minestrone Che è l'economia reale del paese Qualche cosa in più Ci siamo resi conto che Con il DDL Capitali E con la riforma dei PIR Fatta in legge di bilancio Di quest'anno Il minestrone assume un certo sapore E per continuare nella metafora culinaria Però siamo convinti Che se vogliamo fare un minestrone gourmet Dobbiamo necessariamente Lui ride perché sa che ho una passione per il minestrone Dobbiamo necessariamente Metterci qualcosa di più E questo qualcosa di più È un aggancio più diretto Più immediato Con l'economia reale Dobbiamo Essere capaci Di canalizzare L'investimento privato La ricchezza privata Sull'economia reale Come? Evitando Sfasamenti Il risparmio gestito È l'unica strada Per evitare questo sfasamento Perché ovviamente È la canalizzazione principale Anzi direi Pressoché unica Del risparmio privato Che in Italia È tra i più alti del mondo Verso l'economia reale Può essere intermediato Solo dal risparmio gestito E io ci tengo a dire Che il ciclo economico È un ciclo economico Che per la sua fisiologia Vede una Secondo me Solo apparente Dicotomia Tra il risparmio gestito E il risparmio amministrato Ma il risparmio gestito E non lo dico Perché sono a consulenza L'ho detto E lo ribadirei In qualsiasi altro contesto È l'unico canale Per il quale All'economia reale Che è poi quello che ci serve Possono approdare I risparmi degli italiani Approdare con tutti quei caveat Tutte quelle sicurezze Che solo determinate regole D'ingaggio Ci possono dare Per tornare al minestrone Ci deve essere la certezza Che individuato L'ingrediente giusto Non arriva mia figlia Di sei anni E ce ne butta dentro Un chilo Perché altrimenti Il minestrone Non viene bene E quindi Sì Stiamo pensando A qualche altro ingrediente Da mettere nel minestrone Certamente Il risparmio gestito Sarà coinvolto Anzi Lo dico con certezza Quali siano gli ingredienti Lasciatemi qualche sospanso E speriamo che questo minestrone Arrivi a cottura Anche in tempi E in tempi brevi In tempo per il pranzo In tempo per il pranzo Mi sembra un'ottima cosa Nel frattempo però Come dire Uno degli ingredienti Lei lo sa E anche quello Dei titoli di Stato Pensate che ieri C'è stata una giudicazione Di quelli legati BTP legati all'inflazione La richiesta è stata Otto volte L'offerta È un momento Tra virgolette Magico Per i titoli di Stato Nel senso che sono gli unici Anche che offrono rendimenti In calo Gli altri stanno salendo In questo momento Quindi dimostrando solidità Gli investitori Sono molto attratti Qualcuno qui in platea Potrebbe pensare pure troppo Perché comunque Come vede Il ruolo Avete un calendario Di emissioni Molto importanti Quest'anno Il calendario di emissioni Voi sapete Prefissato con la Commissione Europea Alla fine dell'anno precedente Abbiamo un calendario Prefissato Abbiamo una soglia Prefissata Che è il fabbisogno Di debito Per l'anno in corso Che quest'anno È di 358 Mi pare Miliardi di euro Una quota Di questo risparmio Arriva Dalle emissioni Retail BTP valore La gran parte Della quota Arriva Dalle emissioni Per il mercato secondario È ovvio Che lo dicevo prima In questo ciclo economico Con questa fluttuazione Di tassi di interesse Che sono in calo Saranno in calo Noi ci aspettiamo Un calo Di almeno Un quarto Buono Nel quarto trimestre Insomma ci aspettiamo Un buon calo Dei tassi di interesse Ma è ovvio Che i titoli di Stato Abbiano un'attrattività Diversa Con questi tassi di interesse Però questi tassi di interesse Non sono fisiologici Così come non era fisiologico Il tasso di interesse zero E quindi noi ci aspettiamo Che ci sia un riequilibrio Di questa situazione Però per adesso La combinazione virtuosa Tra investimento retail E quindi il BTP valore E la gran parte Ribadisco Di investimento sul secondario Ci danno una buona sicurezza Ci danno una sicurezza Soprattutto Perché Siamo riusciti Finalmente A canalizzare La fiducia Del paese Sul debito del paese Che è una cosa Che non era mai stata fatta Sino ad oggi In modo così strutturato E che ci consente Di dire Che Al di là Di nazionalizzazioni Potabili o meno Del debito Che il paese Crede In tutto questo Perché chi compra debito Compra il paese Chi compra il debito Compra il paese Compra Investendo Sul paese E quindi È la linea di investimento Sul sistema paese Che ci convince particolarmente E il fatto Che nonostante I tassi siano in calo E quindi il rendimento Sia in calo La domanda Sia superiore all'offerta Ci rafforza In tutto questo Onorevole Casasco Beh C'è un grande tema Quello al centro Di queste discussioni In questo convegno Ne abbiamo parlato Anche in passato Che è quello appunto Di creare un ponte Tra i risparmi Però è il sostegno All'economia reale Benissimo Una buona notizia Per il paese Il fatto che il debito pubblico Abbia queste performance Ma Bisogna riuscire poi A realizzare Quello che anche L'avvocato Freni Ci ha detto in apertura Che idea avete Sul loro ruolo E su quello che Il risparmio oggi Può giocare Per sostenere la crescita Allora Il risparmio È fondamentale La Repubblica italiana Si fonda sul risparmio L'articolo 47 Lo dice chiaramente Che tutela il risparmio In tutte le sue forme E gestisce anche E vigila Su quelle che sono L'aspetto del credito E sotto questo aspetto Andiamo molto bene Noi siamo virtuosi L'Europa Abbiamo circa 5.300 miliardi Di risparmio Di cui Mi sembra 1.500 1.600 Per quanto riguarda Sui conti correnti È evidente Che questo risparmio Deve diventare Un motore Nell'economia reale Perché se noi Non trasferiamo Con un debito Che abbiamo Quasi 2.700 miliardi Un risparmio Di numeri Che abbiamo detto Non lo trasfermiamo In economia reale Questo Evidente Non fa bene Al Paese E non ci permette Quella che è La nostra politica liberale Di crescita Dell'economia Per la crescita Del Paese Questa è la ricetta Che diamo noi Sia come Forza Italia Sia come Governo Allora io credo Che l'aspetto fondamentale Sia quello Non perché Siamo qui Come è stato già detto Ma sia quella Dei consulenti finanziari Cosa serve? Serve Più mercato finanziario Serve Soprattutto in Italia Una borsa più ampia Serve Maggiore investimento In equiti Serve certamente Maggiore Regolamentazione Per quanto Minore regolamentazione Più specifica E più semplice Per quanto riguarda Soprattutto le PMI E quindi l'attività Voglio dire Di equiti Per loro Un investimento Maggiore in borsa E serve a livello europeo Certamente un mercato Unitario Voglio dire Finanziario Ma serve soprattutto A trasformare E semplificare E far capire Come a questo risparmio A famiglie E imprese Come questo risparmio Deba essere un volano Per l'economia reale In questo Voglio dire Trasferimento Soprattutto di convinzione Con una anche C'è stato Un certo scetticismo Nell'investimento In finanza Obbligatoriamente Necessaria Per il nostro paese Per la politica liberale Che vogliamo fare Serve chi Chi fa da tramite In conoscenza In convinzione Oltre ai sistemi Abbiamo detto Vi assiedo bene Padre Benanti Dell'intelligenza artificiale Serve Un capitale umano Che sappia Trasferire Questa fiducia Voglio dire Questa opportunità Straordinaria Alle imprese Alle famiglie E questo è stato detto bene Prima Chi sono? Sono i talenti Che è stato citato Dal Presidente Conte Che sono i consulenti finanziari I quali possono trasferire Essere veramente Il motore Di trasferimento Di questo risparmio Nell'economia reale Attraverso le imprese Specialmente le PMI Essere un volano Ovviamente Sia per il paese Che per l'Europa Perché è fondamentale Che ci sia un'Europa Noi siamo fondamentalmente Europeisti Perché come ha detto bene Voglio dire Paolo Magri Abbiamo Certamente Una Cina Che ha un miliardo e mezzo Di persone Un'India Che ha un miliardo e mezzo Di persone E un'Europa Che ha 400 milioni E è evidente Che è necessario Su tutti gli aspetti A partire dalla difesa A partire dalla fiducia Degli investimenti Che sia una compattezza Voglio dire Di un continente Che va oggi A confrontarsi Con l'Asia Da una parte Con l'America Dall'altra E oggi Con l'Europa Che senza unità Non può Certamente sviluppare Questo progetto Liberale Di investimento Del risparmio Specialmente italiano In economia Onorevole Osnato Ci sono temi Che ricorrono Nel corso degli anni Sicuramente Alcuni passi in avanti Vengono realizzati Ma in concreto Come si può accelerare Su questa strada Che state descrivendo Per aiutare il Paese A approfittare Di un asset Unico Che al mondo Ha pochi paragoni In termini di disponibilità Di risparmio privato Che però Viene investito Forse non nel modo ideale Per sostenere l'economia Sì esatto Innanzitutto Buongiorno a tutti È un piacere Tornare qui a Consulenza È una delle realtà Più partecipate Dove si riscontra Anche tanto entusiasmo Tanto interesse Di questo Credo Va ringraziato Tutti i partecipanti Ma soprattutto Il Presidente Conte Immagino Che è colui Che raccoglie Tutta questa Voglia di fare E allora Mi fa piacere Insomma Vedere che i miei colleghi Che mi hanno preceduto Hanno La stessa Diciamo Idea La stessa prospettiva Che ho anch'io Perché vedete Spesso si dice Questa è una Coalizione di governo Che non sta in piedi Che litiga Che non ha le stesse Prospettive Ecco noi abbiamo Da qui partiamo Per avere la stessa Prospettiva È un'idea di nazione Che è strutturata Proprio sul tema Della valorizzazione Di quelle che sono Le peculiarità Della nostra nazione E dei nostri Concittadini Allora Abbiamo detto tutti Che c'è un risparmio Molto forte Da parte dell'italiano Una propensione Di risparmio storica Abbiamo però anche Alcune analisi Che ci dicono Che questa messa Importante 5.600 miliardi Di risparmi Spesso Non sono incanalati In provvedimenti E in ambiti Come diceva giustamente Il collega Freni Più produttivi Per il risparmiatore Ma anche per la nazione Si parlava Dei 1.400-1.500 miliardi Ancora fermi Sui conti correnti Che non producono Assolutamente niente Sono assolutamente niente Ecco io credo Che proprio Da questa assemblea Si possa comprendere Come Chi opera In questo settore Deve essere Il player Ancora di più Di quanto ha fatto Finora Di Prospettiva Per la crescita Ovviamente Dei singoli risparmiatori Dei singoli consulenti Ma soprattutto Anche Del sistema Del sistema Italia Come si fa? Si fa sicuramente Con quello che abbiamo pensato Di fare anche in Parlamento Con una condivisione traversale Di fornire Una maggiore educazione finanziaria Agli italiani Però non crediamo Oggi Nessuno di noi Può credere Che avendo Sicuramente In modo positivo Messo alcune ore Di studio Di educazione finanziaria Appunto nelle scuole O promuovendo incontri Anche con Piccoli imprenditori Artigiani Noi domani Troveremo un popolo di trader Ecco voglio dire Quello serve sicuramente A dare Investire e fare trading Sono due cose diverse Quindi non è quello l'obiettivo Non crediamo Di aver risolto il problema Così come Bisogna lavorare Sull'alfabetizzazione digitale Insomma Che è anche Un altro tema importante Però Credo Che noi dobbiamo Far percepire Che c'è Ci sono dei professionisti Che sanno fare questo lavoro Di cui bisogna affidarsi Bisogna togliere Anche un po' Quest'aurea Sempre Dell'idea Della Speculazione finanziaria C'è una Modalità di Offrire Degli strumenti Che possono essere utile Alle famiglie E utile Alle nazioni Allora La semplificazione La Anche Modalità di Incentivazione Anche normativa Lo si può racchiudere In quello che Giorgia Meloni Ha detto Quando ha presentato Il suo governo Non disturbare Chi ha voglia di fare Che sembra un postulato Un po' Primitivo Ma sta a significare Che se c'è qualcuno Che fa bene qualcosa È inutile inventarsi Tante cose Bisogna stimolare E supportare Questo qualcuno Che fa qualcosa Tra questi ci sono I consulenti finanziari Fabio Massoli Fabio Massoli Se c'è Un'istituzione Che sta proprio A cerniera Tra i risparmi Degli italiani Gli investimenti Nella nostra economia Cassa depositi E prestiti Perché voi raccogliete Attraverso Il risparmio postale Poi investite Da te Strumenti Per la crescita Dell'economia Ci racconta Come vede Le sfide Anche per far crescere Questo rapporto Innanzitutto Grazie per l'invito Ringrazio Il Presidente Anche per Diciamo L'introduzione Che credo Abbia centrato Molti degli argomenti Dei quali poi parleremo Durante la giornata Un aspetto Che mi ha Particolarmente Colpito È proprio questa Unità In qualche maniera Di visione Sul fatto che ci siano Tantissime risorse Della parte degli italiani Che debbano essere Convogliate In qualche maniera Nell'economia reale Come diceva giustamente Cassa depositi e prestiti Raccoglie Qualcosa come il 7% Circa Del risparmio degli italiani Circa 320 miliardi All'interno Del risparmio postale Ma oggi Più che parlare Del prodotto Del risparmio postale Credo che sia importante Cercare di rappresentarvi Come in realtà Questi denari Questi risparmi Vengono poi investiti All'interno Dell'economia reale Cassa depositi e prestiti Essenzialmente Veicola Circa 400 miliardi Di investimenti Tra strumenti Di debito Strumenti Di equiti Proprio all'interno Dell'economia reale Se dovessi provare A descrivere In sintesi Quella che è la missione Di Cassa depositi e prestiti È proprio quella Di raccogliere Risparmi degli italiani E di investirli In infrastrutture sociali Questo vuol dire Da un lato Ovviamente Finanziamenti Alla pubblica amministrazione Ma vuol dire anche Strumenti di rischio Perché poi Alcune iniziative Ed in particolar modo Strumenti che riguardano La crescita Delle piccole e medie imprese Di un mercato Come quello Del debito privato E del private equity Sono particolarmente Importanti Per supportare La crescita Economica Del paese Se guardiamo In realtà E credo questo Sia uno degli aspetti Fondamentali Che voi Nel vostro ruolo Dovete cercare Di In qualche maniera Cogliere È proprio La velocità Con la quale Negli ultimi 18 mesi È cambiato In maniera Drammatica Il contesto Siamo passati Da una situazione Nella quale Gli italiani Erano più o meno Abituati A dover parcheggiare La propria liquidità Sui conti correnti Per tantissimo tempo Perché comunque Anche gli strumenti alternativi Davano dei rendimenti Bassissimi C'era un'altissima volatilità Di mercato Quindi una rischiosità E sappiamo bene Che gli italiani Sono tendenzialmente Avversi al rischio Diciamo sempre Siamo un po' Delle formiche Da questo punto di vista Chiaramente oggi Ci troviamo in un contesto Completamente diverso Che ha trovato Sicuramente spiazzati Gran parte dei risparmiatori Proprio per un tema Di educazione finanziaria Che sono d'accordo È una prospettiva Di lungo termine Difficilmente È qualcosa Che si riesce All'applicare nel brevissimo Ed è per questo Che è fondamentale L'accompagnamento Di figure professionali Che siano in grado Di ben bilanciare Quelli che sono Gli obiettivi di risparmio Perché poi Non ci dobbiamo dimenticare Dobbiamo sempre partire Da quelle che sono Le esigenze di investimento Dei risparmiatori Quindi cercare di comprendere Quelli che sono Rischiosità, orizzonte temporale Eccetera Che sono un po' le basi Del vostro lavoro Non ve le devo di certo Elencare E cercare a questo punto Di andare a veicolare Proprio verso quella Che è l'economia reale Da questo punto di vista Credo che Tanto sia stato fatto Che tanto si possa Ancora fare Mi auguro che Cassa Depositi e Prestiti Possa in qualche maniera Essere un catalizzatore Di iniziative Che possano portare A un maggior utilizzo Del risparmio degli italiani Proprio per un supporto All'economia Federico Corneli Come Consob Vede questa sfida Da una parte Il risparmio degli italiani La sua tutela Ma anche l'impiego Nell'economia reale Beh dall'altra Di cosa hanno bisogno Le nostre imprese In termini di finanziamento Il problema è il credito O il problema è un altro Che ruolo possono giocare loro Innanzitutto Grazie Buongiorno Voi siete una infrastruttura Del paese Proprio un'infrastruttura Di professionisti Di alto livello Il presidente Ed io ci conosciamo Da 25 anni Lui era in aula Ai primi corsi EFPA Che tenevamo 99 Se ricordo bene Tornerei sull'ottica europea L'ottica europea Perché Non solo c'è il problema Diciamo Della governance europea Ma Noi abbiamo un problema Che l'Europa È sfocata Sta guardando un po' L'economia In modo sfocato Cioè C'è molta attenzione Sul livello dei tassi Che sono saliti Un pochino Ma L'Europa Non ha capito Che manca L'equity Cioè In Europa Noi siamo corti Di capitale di rischio Capitale azionario I numeri Poi voi siete professionisti Li conoscete Cioè La capitalizzazione Sul PIL Di borsa Di Italia Francia Germania Insomma Non è quella Dei paesi anglosassoni Noi siamo un po' indietro Però abbiamo delle infrastrutture Cioè Abbiamo un sistema bancario Solido Abbiamo una borsa O più borse Ovviamente Che sono infrastrutture solide Ci sono i professionisti Come voi Cosa manca Manca capire E spero che la prossima Commissione europea Dopo le elezioni del 9 giugno Fra le sue priorità Dopo aver visto Quella del digitale La priorità del verde O due legislature fa La priorità delle riforme Sulle banche Metta al centro La ricapitalizzazione Dell'Europa Cioè C'è necessità Che noi Per fare La trasformazione digitale La trasformazione verde Di avere capitale Equity di rischio Capitale paziente E questo Deve essere Uno sforzo europeo E' un'Europa Che manca Della cornice giuridica Cioè Noi non abbiamo La Costituzione europea Non abbiamo La Grundgesetz Non abbiamo I codici unici Il codice civile europeo Non abbiamo Il codice commerciale Eccetera In questo quindi Ci vuole uno sforzo Credo che l'Italia Sia forse un pochino Un passo Un po' più avanti Perché il governo Ha fatto un ottimo Percorso Un'indicazione Dell'Ocse Un libro verde Una serie di iniziative Dei legislatori Adesso andiamo A rivedere il tuff Quindi noi siamo Già nel percorso Però deve farla Tutta l'Europa Vanno trovati Tutti gli stimoli Necessari Affinché il risparmio Diventi paziente E possa essere Veicolato O con il private equity Che ha svolto Un'ottima Insomma Azione Vent'anni fa Non c'era Ma veicolato Attraverso risparmio Gestito O amministrato Comunque veicolato Verso capitale di rischio Che possa rilanciare L'economia europea Senza di questo Arriveremo a un punto In cui la politica monetaria Non è più super espansiva La politica fiscale europea Potrebbe esserci Qualcosina in più Ma non è così potente E quindi Perdiamo il passo Rispetto Come ricordava Il dottore Ai cinesi O agli europei Io spero che Quando si riunirà La nuova commissione europea Si ponga questo problema Di ristrutturazione Proprio del profilo Dei fattori Della produzione In Europa Dove manca l'equity Questo è importante Per cui i mercati finanziari Da sostenere Liquidità delle borse Da sostenere E possibilmente Anche con un'azione Dei fondi pensioni Delle casse di previdenza Che possano portare Questo Diciamo Flusso costante Su questo c'è Un grande movimento In questo momento Poi voglio sentire Anche l'avvocato Freni Come vede Gli investitori istituzionali Che devono scendere in campo Forse con una regia Ma ne parleremo Perché Patrizia De Luisi Voglio capire invece Come sta l'economia Come stanno I consumatori Ma alla fine Anche i risparmiatori Dal suo punto di vista Perché ci sono una serie Di indicatori Che sono molto positivi Pensiamo al mercato Del lavoro Che è andato estremamente bene Nell'ultimo anno e mezzo Il nostro PIL Fa meglio Di quello degli altri paesi Quello che vedete voi Dal vostro osservatorio Che cosa ci dice? Avete appena presentato Dei dati Dall'osservatorio Dell'economia reale Bene Abbiamo visto Che abbiamo dei dati L'inflazione Sta scendendo Si stanno riducendo I costi energetici Ma in realtà Non abbiamo ancora raggiunto I livelli della prepandemia Quindi Se andiamo a confrontare Questi dati Al netto Di quello che è accaduto E quindi Dell'inflazione Che sta comunque Che ha portato comunque Ad inalzare i costi Delle materie prime Non solo Le famiglie Stanno ancora sotto A 1600 euro A famiglia Rispetto Al 2019 Quindi insomma Diciamo che dobbiamo Tenere ancora L'attenzione Molto alta Perché la sofferenza C'è ancora E non aiuta Non aiuta A questo senso Di incertezza Dovuto a questo momento Come dire Lo sappiamo tutti Cosa stiamo vivendo Gli scenari di guerra Impauriscono Tant'è vero Che si nota Questo qui Come dire La platea Ma non segna Si nota di nuovo Una tendenza A il risparmio Da parte delle famiglie Ed è su questo Che è importante Come dire Focalizzarci Detto questa cosa Un aumento Timido Dei consumi Degli italiani Noi sappiamo Che i consumi Interni Sono importanti Per il PIL Per raggiungere Quel livello Importante Per il nostro paese Però sono assorbiti Da questa inflazione Quindi Nelle nostre attività Tradotto In parole semplici Si incassa di più E si vende di meno Quindi i problemi ci sono E sono forti E i problemi Per portarli All'esempio di tutti Senza tanti numeri Dipende da quante attività Hanno chiuso Allora Io parlo di attività Di vicinato Le attività Di servizio Se queste attività Non sono riuscite A stare in piedi Hanno chiuso Ma voglio arrivare A un dato Che lo leggo Comunque positivo Perché comunque Poche sono le attività Purtroppo Che aprono Rispetto alle chiusure Quindi il dato È ancora negativo Ma non è detto Che venga a mancare Questa volontà Di fare impresa Ecco che allora Torniamo All'argomento Di oggi Quanto è importante Essere accanto Alla scelta Delle famiglie E anche delle imprese Nel distinguere Nell'allocare Quali sono I fabbisogni Fabbisogni Dei risparmiatori Dei risparmi per le famiglie E i fabbisogni Delle imprese Allora Questo è un momento In cui Se ne eravamo convinti Da tempo Ancora di più oggi È un momento Che solo insieme Si riesce a venire fuori Da queste situazioni In un contesto Dove tutti insieme Individuiamo un percorso Per E si può Venirne fuori Per venirne fuori E si può Io credo Non credo Sono convinta Confesor Centi Anas Sono due attori Fondamentali Per questa partita Perché sono accanto A I risparmiatori Le famiglie Per utilizzare E incanalare Quei risparmi Verso Quell'economia reale Di cui c'è Tanto bisogno C'è tanto bisogno Per le nostre imprese Per le aperture Di nuove attività E comunque Sono scelte Che vanno Però ponderate Seguite Accompagnate Da tanta Capacità E professionalità È vero Non si può pensare A un'educazione finanziaria Perché a lungo termine Però È un altro Il punto Ognuno ha il proprio mestiere L'importante è Che le famiglie E le imprese Capiscano questa cosa Che ognuno ha il proprio mestiere E io ho bisogno Della professionalità Di chi mi sta vicino Mi consiglia Per potermi muovere Un plauso A questo punto Alla relazione del presidente Che ha colto Tutti questi punti Dal lavorare insieme Alla formazione Alla gestione Alla gestione Dell'intelligenza artificiale Senza piangerci addosso Il mondo cammina Non possiamo dire No, la dobbiamo governare Dobbiamo entrarci dentro Saperla comprendere E governare Grazie anche Di questo intervento Molto Concreto Il presidente Ha incassato Un sacco di complimenti Alla relazione Poi gli faccio un po' Tirare le fila Perché intanto Beh, state facendo Tantissime domande Avvocato Freni Qui Rispetto agli anni scorsi Ci sono due tematiche Su cui chiedono Dei chiarimenti La prima arriva Un po' da lontano Ed è L'armonizzazione fiscale Per quanto riguarda I fondi di investimento Per metterli in condizione Di compensare Plus e minus valenze Che è un tema Che arriva da lontano Quindi chiedono Come dal punto di vista fiscale Il governo Intende Se intende muoversi Per stimolare il risparmio E in particolare Il mondo Dei fondi di investimento Pensavo fossero due No? L'altra arriva L'altra arriva No, no Perché l'altra è più recente Legata al BTP Naturalmente Perché Il 50% delle domande Che fanno loro È come mettere insieme Lo stimolo All'economia reale Con l'esenzione Dall'ISEE Del BTP Che è un tema Che ha fatto discutere Anche in questa fase Potrei avvalermi del fatto Che mi occupo di politica monetaria E non di politica fiscale Ma non lo faccio Ma non lo faccio Dovremmo invitare anche Leo No, no, no Ma il governo si occupa Queste sono politiche fiscali del governo Quindi Non invoco nessun esimente Allora Andando con ordine La delega fiscale Che abbiamo approvato E che ha rivoluzionato Il sistema fiscale Sta rivoluzionando Con i chiedi detrativi Prevede espressamente Una Non voglio dire Omogeneizzazione Ma quantomeno Una gestione paritaria Di partite fiscali Che sino a ieri Sono sempre state gestite In modo eterogeneo E quindi Certamente la strada è quella Ora Bisogna però essere anche realisti E essere tutti consapevoli Che determinate politiche fiscali Che sono nelle intenzioni del governo E non ci sono Perché ve lo dico io Qui Ma ci sono perché sono scritte Nella delega fiscale Richiedono Un Utilizzo di cassa Che va fatto con giudizio Nel senso L'attuazione Di tutti Le parti Della delega fiscale Andrà fatta con giudizio Poi mi direte Poi mi direte È una compensazione Perché le togli da una parte Le metti dall'altra Ovviamente E quindi probabilmente La strada è quella La strada è quella Di togliere da una parte Per mettere dall'altra Quindi spostare Determinati Di far bisogni da una parte Termini fischi 70 miliardi di interessi Sul debito Lo scorso anno La legge di bilancio Per il 2024 Sono 24 Quindi per capire Le grandezze È ovvio che Sostenere L'acquisto Di titoli di Stato È il modo migliore Per garantire Stabilità Al debito E quindi è ovvio Che la politica Del governo Deve essere quella Anzitutto Di stabilizzare il debito Con un debito stabile Con un interesse Al debito più basso Ci sono risorse Anche E torno a quello Che diciamo prima Per gestire Quella omogenizzazione Di partite fiscali Senza una stabilità Del debito Senza Camminare col fardello Di 80 miliardi L'anno Di interesse Sul debito Perché poi qui Non si tratta Di farlo sparire Cioè nessuno È Harry Potter Che fa sparire Con la bacchetta magica Del debito Si tratta Semplicemente Di calmierare L'interesse sul debito Che non deriva Soltanto dall'aumento Dei tassi Deriva da Tutta una serie Di altri fattori Contingenti Stabilizzare il debito Vuol dire Garantire Partite fiscali Più eque Per tutti E quindi è quello L'obiettivo Mi rendo conto Che un incentivo All'acquisto Di titoli di Stato Non è il massimo Della vita Per chi fa il consulente Finanziario Lo capisco Ma vi dico Che è la strada Per ottenere Poi altro A livello Soprattutto È una risposta Molto chiara E molto onesta Assolutamente Ecco Avvocato Freni C'è un altro aspetto Su cui ci sono molte domande Che è quello dei PIR I piani individuali Di risparmio E vi chiedono Se pensate Di poter intervenire Aumentando il tetto Ad esempio investibile Oppure rimuovendo Anche gli ostacoli In unicità L'univocità Dei PIR Abbiamo rimosso L'ostacolo In legge di bilancio È dal primo gennaio Che l'univocità Dei PIR È un tema Accantonato Risolto Ce l'aveva chiesto Anche Borsa Italiana Abbiamo rimosso L'univocità Con la legge di bilancio Sull'aumento Del tetto Sì ci stiamo ragionando Ovviamente Anche l'aumento Del tetto Di investimento Dei PIR Ha un impatto fiscale Perché anche Quello ha un impatto fiscale Quindi ha un impatto Di costo In termini di fabbisogno Ci stiamo ragionando Diciamo che Vogliamo prima vedere Un semestre Di investimenti Con Senza l'univocità E poi Ragionare Nel secondo semestre Del 2024 Per capire Se alzare Anche il tetto Probabilmente Ve lo dico subito La risposta è sì Però vogliamo Prima vedere Come va Un primo semestre Una volta rimossa L'univocità Onorevole Osnato Anche il suo punto di vista Peraltro mi scrivono Che il suo compleanno E così Auguri Allora Questo è un po' caramba Ma le volevo dire Nel complesso La maggior parte Delle loro domande Riguarda la leva fiscale Per incentivare anche E canalizzare Il risparmio degli italiani Verso L'economia reale Voi pensate che Concretamente Anche in questa legislatura Si possono fare dei passi avanti Sì E proprio la sua domanda Mi dà anche l'occasione Della risposta Nella legislatura C'è giustamente Una grande attenzione E una grande Volontà Di vedere le cose Giustamente Fatte E fatte subito Ecco Si sono create subito Le commissioni di lavoro Per i decreti attuativi Che hanno lavorato Già all'inizio di settembre Oggi siamo A marzo E abbiamo praticamente Dieci decreti attuativi Ecco Io credo che questo dimostri Che noi abbiamo Sicuramente Noi dico come Parlamento Perché poi Merito al governo Che ha Un po' E alle commissioni Che l'hanno supportato Ha fatto questi decreti Però è anche Un lavoro Che il Parlamento Anche nelle sue Diverse posizioni politiche Ha svolto L'ha svolto velocemente Con la responsabilità Di sapere che questi decreti Danno molte Delle risposte Che chiedono Però Insomma Il pallino È quello Comunque Di farlo Mantenendo una coerenza Con la tutela Dei conti pubblici Con la tenuta Del debito Insomma Abbiamo anche Piccoli segnali Non è che dico Adesso stappiamo Champagne E mangiamo aragosse Però abbiamo Piccoli segnali Del miglioramento Del debito pubblico Abbiamo tanti indicatori Macroeconomici buoni Ecco Vuol dire che noi Dobbiamo procedere Con questa politica Non dei piccoli passi Ma dei coi passi Ragionati Io dico E chiedo Ai presenti Ma direi in più Agli italiani Nel mio piccolo Insomma Di avere fiducia In questo In questo percorso Perché è un percorso Che secondo me Porterà Dei risultati Importanti Per recuperare risorse Per poi creare Anche delle incentivazioni In questo momento Noi non Non dobbiamo Avere la fretta Di risolvere Subito Tutto il problema Dobbiamo avere La volontà Di proseguire In una direzione Univoca Onorevole Casasco C'è grande interesse Sul tema Sollecitato anche Da loro oggi Ma di cui si parla Molto Degli investitori Istituzionali Perché oggi Anche chi gestisce Istituzionalmente Il risparmio degli italiani Investe molto meno Rispetto agli altri paesi Ieri il presidente Il presidente del fondo Comete Il fondo dei metalmeccanici Offriva una strada La sua strada Una operazione pubblico privato Per andare in questa direzione Portando insieme anche Cdp Come investitore istituzionale Ma al di là di questo Chiedono Come si possano sensibilizzare Maggiormente I fondi pensione Le casse di previdenza Per investire in una borsa Che altrimenti E' già stato citato Resta indietro Capitalizzazione su Pilsiamo Attorno al 40% Negli altri paesi In alcuni paesi Supera il 100% Ma è corretto Tutto quello che è stato detto Anche Dottor Cornelli Ha proprio parlato Di capitalizzazione Dell'Europa Ma vale anche per l'Italia Certo serve più equiti Servono più fondi Di investimento Certamente serve Una base Finanziaria più ampia In particolar modo in Italia Che abbiamo bisogno Di ampliarla particolarmente Con la borsa Poi C'è eventualmente L'investimento Da parte dei fondi istituzionali E quindi bisogna intervenire Certamente E certamente Stiamo osservando Con grande attenzione E io credo Che occorra intervenire Perché cosa succede Che i fondi istituzionali Gli antigestori Spesso investono In fondi stranieri I quali poi investono In aziende Concorrenti Alle aziende italiane E lì certamente E' un gatto Non che si morde la coda Ma al contrario Che dà dei danni Ad esempio A quei lavoratori Che trasferiscono Il loro TRFR O il loro fondi pensione Ai fondi italiani Che investono Ripeto In fondi stranieri Che investono In aziende stranieri Concorrenti Con le aziende italiane Allora è evidente Allora è evidente Che sotto questo aspetto Occorre intervenire Secondo me Una percentuale Dei fondi Istituzionali Deve essere investita Sul sistema italiano E' particolarmente In equi di Nelle piccole e medie imprese Che sono il motore Vero Voglio dire Dell'economia italiana Perché il nostro Tessuto collettivo È tale Per cui bisogna Creare un sistema Che Con tutta un'alleanza Di tutti i soggetti Che vado a investire Soprattutto delle PMI Quotate E quindi Allora è Sotto altri aspetti Io credo certamente Una 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 visione importante Perché manca Il trade union E ripeto Che sono i consulenti finanziari Quindi ritorniamo Al tema della fiducia Perché diversamente Il risparmio Oggi Non solo Non rende Voglio dire Quello da far capire Alle famiglie Alle imprese Ma difattamente L'inflazione Erode Quello che è il risparmio E compito importante Della professionalità Dei consulenti finanziari Andare a portare questo Insieme a tutti gli altri strumenti Legislativi Di semplificazioni Di tassazioni Dell'investimento Nelle imprese Particolamente E' fondamentale Creando questo sistema Di fiducia E attraverso La professionalità Degli intermediari Praticamente finanziari Che possono ben spiegare In un sistema generale Quello che può essere L'investimento Nelle PMI Italiane Nei fondi Di investimento Italiano O in fondi Di fondi Ma che diversamente Se noi non Creiamo il motore Del trasferimento E continuiamo a dire Del trasferimento Nell'economia reale Ma non c'è Nello strumento Né chi fa comprendere Il sistema di fiducia E di interesse Soprattutto a investire In quei sistemi Aziende O fondi istituzionali Questo viene a mancare Perché manca il pezzo fondamentale Questo loro l'hanno fatto Alla grande Perché quando 2017 E 2018 Sono nati I piani individuali Di risparmio Beh il loro lavoro Insieme alla sensibilità Reale Delle famiglie Dei risparmiatori Ha portato Un grande successo Una grandissima raccolta Poi in qualche modo Quel progetto È stato dirottato Da interventi sciagurati Che ne hanno cambiato L'identità Però molti segnalano Che una nuova stagione Di piani individuali Di risparmio Beh potrebbe Fare da scintilla Ecco da questo punto di vista Però cdp Tornando al tema Dove investono Anche gli investitori istituzionali Voi Ha citato prima Ovviamente Il vostro ruolo A sostegno Delle amministrazioni pubbliche Ma poi c'è un ruolo Più legato Con cdp equity Cdp venture Cdp Nel mondo Anche del private equity Ci racconta Che posizione avete oggi Assolutamente sì Come raccontavo prima Il fatto che Cassa depositi e prestiti È una cinghia di trasmissione In qualche modo All'interno dell'economia Vuol dire anche Cercare di intervenire Proprio in quei capitali di rischio Dove tendenzialmente Il piccolo risparmiatore È bene anzi Che ne stia Direttamente fuori In qualche maniera Che ci sia qualcuno Ad aiutarlo Che siano i consulenti O che siano Degli altri soggetti Tra le altre cose Uno dei temi Che si ricollega Molto bene a questo E che Se ne parlava prima C'è il fatto Che contestualmente Noi ci troviamo In uno scenario Estremamente diverso Dal punto di vista Dei risparmiatori Degli investimenti E c'è anche in considerazione Di come sta mutando In qualche maniera La struttura dei risparmiatori Anche da un punto di vista Di età Abbiamo Uno shifting sensibile Verso la cosiddetta Silver economy Abbiamo un gap pensionistico Importante Non ci dobbiamo dimenticare Che tra ultimo stipendio E prima pensione Credo da ultimi calcoli Ci sia uno scalino Del 40% circa Quindi la gestione Del risparmio In ottica previdenziale La gestione Del risparmio Proprio a supporto Di queste tematiche Credo che sia fondamentale Ritornando Al tema Del supporto Alle piccole e medie imprese Indubbiamente Sono la spina dorsale Del nostro paese Rispetto ad altre economie Le piccole e medie imprese Tra le altre cose Un altissimo tasso Di innovazione Perché non ce lo dobbiamo Dimenticare In Italia abbiamo Delle eccellenze Non solo dal punto di vista Manifatturiero Ma anche dal punto di vista Dell'innovazione Rappresentano un elemento Assolutamente importante Per la crescita economica Del paese E soprattutto Per quelle prospettive Di cui si parlava prima Di riduzione del debito E di poter mettere Nuovamente Delle risorse Da parte dello Stato A disposizione Quindi da questo punto di vista Il ruolo di cassa Fondamentalmente È quello di essere Un ancora investor Quindi di cercare In qualche maniera Di attirare Investitori Anche dall'estero Proprio per un processo inverso Rispetto a quello Che si raccontava prima L'aspirazione di cassa È quella di convogliare Risorse nazionali Quindi anche con la collaborazione Con le casse di previdenza Con i fondi pensioni Ma dall'altra parte Lo facciamo anche Andando a sollecitare Investitori esteri Che quindi possono In qualche maniera Investire all'interno Dell'economia reale Freni Come vede questo È anche il ragionamento Che si sta facendo Sugli investitori istituzionali In una battuta Ma allora Vedete Gli investitori istituzionali Nel DDL capitale Abbiamo riconosciuto Le casse di previdenza Come investitori istituzionali Finalmente Gli investitori istituzionali In Italia Hanno una potenza Di fuoco Limitata Penso a casse E fondi pensione Perché dobbiamo Anche qui Cercare di essere onesti Con noi stessi Noi abbiamo Un sistema previdenziale Di primo pilastro Quindi dove A differenza Di sistemi anglosassoni Il risparmio Va tutto su IMS E non va su Casse e fondi Se avessimo Un sistema Prevalentemente Di secondo pilastro Come nel mondo anglosassoni Avremmo una potenza Di fuoco Su casse E fondi pensione Completamente diversa Ma non possiamo Cambiare il nostro Sistema previdenziale Dal giorno alla notte Affonda 150 anni fa Affonda speriamo Che non affondi Affonda Le radici affondano 150 anni fa E quindi ce lo teniamo Detto questo Questo nostro Micro sistema Previdenziale Di casse E fondi Che possono Dare un booster All'economia Certamente Sono d'accordo Deve Veicolare E stiamo Finalmente Licenziando Il regolamento Investimenti Delle casse Di previdenza Deve certamente Veicolare Il proprio investimento Sull'economia reale E prevalentemente Sull'economia nazionale Detto questo Ovviamente Ricordiamo sempre Non devo ricordarlo A voi Che il driver Di ogni investimento È il rendimento Del capitale Quindi Il nostro dovere Credo Come governo Non è quello Di imporre A Tizio O a Caio Dove deve investire È quello Di rendere Appetibile A livello Di rendimento L'investimento Su asset Nazionali Cioè Io sono Ontologicamente Contrario A obbligare Qualcuno A investire Su qualcosa Perché c'è La libera Determinazione Del mercato E dell'investitore Il mio dovere Come governo È quello Di rendere Gli investimenti Nazionali E gli investimenti In economia Reale Tanto appetibili Da avere la fila Fuori dalla porta Perché la gente Venga a investire Questo credo sia Il nostro compito Federico Cornelli Ci sono Due aspetti Uno in passato Scaldava questa platea Parecchio Abbiamo pochi istanti Però le voglio chiedere Un'opinione su Il primo è Le regole Di questo mondo Retail investment strategy Si è discusso molto L'anno scorso Di quello che avrebbe fatto Anche il commissario Che si occupa Direttamente Di questo mondo In termini di Cambiamenti di regole Di vieti Agli inducement E così via Come vede il futuro E la posizione Della Consob Commissario ovviamente La McGuinness Noi Sulla retail investment strategy Abbiamo una visione Diciamo equilibrata Cioè il divieto assoluto Di inducement Non penso sia La strada corretta Insomma Non è con i divieti Che si creano I mercati O le predisposizioni A investire E soprattutto A creare investitori E quindi il divieto assoluto Il ban No Assolutamente no Certamente Ci può essere Più trasparenza Ci deve essere Ci deve essere Un controllo Dei comportamenti Quello sì Però Noi dobbiamo Far sì Che le norme europee Siano poi Favorevoli al mercato Un divieto assoluto Potrebbe essere Una cosa che invece Non porta risorse al mercato Potrebbe esserci Uno spiazzamento Abbiamo già visto Delle norme europee Tipo L'unbundling Sulla ricerca Sui titoli azionari Che poi ha ucciso La riserce Su tutti i piccoli titoli azionari Per cui ci vuole Come dicevano i latini Con grano salis Con un po' di equilibrio Ma lasciare anche La libertà di impresa Alle case Investimenti Alle case che producono E ovviamente E poi andare a controllare I comportamenti Però devo dire Anche dai dati Dello CF Noi abbiamo In Italia Comportamenti Insomma Sufficientemente Positivi Non vediamo Grandi Grandi problemi Cioè l'altro aspetto È legato Alla fase Che attraversano i mercati Sapete i mercati Sono risk on Sale qualunque cosa Ed è tornato di moda Anche il bitcoin Quando ha toccato I 70 mila dollari In questa fase Noi Classi NBC Siamo subissanti Di domande Di risparmiatori Che chiedono Come si investe Negli asset digitali Come si investe Nel bitcoin Che è entrato In una fase diversa Perché la SEC americana Ha sdoganato Gli etf Sul bitcoin Come vedete Questo fenomeno Come consobe E cosa si possono aspettare loro In termini di regolazione Ma Il bitcoin Diciamo le criptovalute Già In termini di chiamarle valute Non mi trova molto a mio agio Ecco Devo essere sincero Sotto Il sottostante Se uno va a vedere Non lo trova Molto spesso Quindi C'è un problema Anche di terminologia Per fortuna In Europa Abbiamo questa prima regolamentazione Micar Ovviamente Tutto è perfettibile Già qualche critica Però insomma Stiamo cercando Anche con la Banca d'Italia Ovviamente Di trovare Poi l'applicazione In Italia Questo è un punto Certo Devo dire Forse ci voleva Ma questo l'aveva ricordato Paolo Savona Molto bene Un accordo globale Prima Su come regolamentare Questa innovazione L'innovazione non va fermata Va però gestita Qui ci può essere Un punto In cui una parte del risparmio È andata a scommettere Su uno strumento Che prevalentemente È solo speculativo Sul rialzo Peraltro E che ha anche Delle funzioni Non sempre Molto Molto Trasparenti Per cui Forse bisogna portare Il risparmio di più Su ciò che è connesso All'economia reale Ma mi pare che Tutta la platea Lo ha ricordato Assolutamente Patrizia De Luisa Il suo messaggio conclusivo Che devo lasciare alla platea Oggi Ma insomma Ribadisco con maggior forza Quanto dicevo prima Alla luce di tutte queste riflessioni È fondamentale Avere il professionista Che ti sa accompagnare Dobbiamo tutelare Il più possibile Giusto La libertà di impresa Però Dobbiamo tutelare Il più possibile Le scelte Dei risparmiatori Perché come dicevo prima I dati ci dicono Che dopo il periodo In fausto Della pandemia Eccetera Le famiglie sono tornate Ad avere una propensione Al risparmio Questo è aumentato A maggior ragione C'è bisogno di essere vicino A famiglie e imprese E qui è importante E fondamentale L'accompagno Che viene da parte Dei soggetti preposti Noi come associazioni Faremo la nostra parte Il governo Deve fare la propria Perché da questa situazione Se ne può venire fuori Però bisogna fare il quadrato Per riuscire a farlo Assolutamente Grazie anche a Patrizia De Luise Abbiamo Un po' Lasciato qui Al margine Della nostra platea Paolo Magri Con il suo grandangolo Il suo binocolo Ma prima Ha citato una cosa Che immagino Sia quella di cui Si discute di più Quando si parla Del futuro Del mondo Che è L'elezione americana Guardando con il suo grandangolo Che cosa vede In una battuta Prima Mi faccia fare una battuta Sui 180 miliardi Che l'Europa dovrebbe investire In più all'anno Che sembra una cifra Inimmaginabile È un terzo Di quanto Cassa depositi e prestiti In una cassa Di un paese Veicola nell'economia reale Ogni anno Quindi l'Europa È ferma Perché non riesce a mettere insieme Oltre al budget attuale 180 miliardi Ed è un terzo Ce l'ha raccontato lei prima E questo ci fa capire Tutto di questo Sulle elezioni americane Sarò rapidissimo Non lo sappiamo ancora Chi vincerà C'è chi dice Che se vincesse Trump Se tornasse Trump Sarebbe una sciagura L'ha detto la Lagarde Lo pensano in tantissimi C'è chi dice Che se tornasse Trump Non cambierebbe molto Perché tutto sommato Biden ha fatto Le politiche di Trump I soldi all'Ucraina Non stanno arrivando Neanche adesso Che c'è Biden E non arriveranno dopo La politica con la Cina È stata dura Anche con Biden La politica con l'Europa Di competizione Per difenderli Made in USA È stato forte Anche con Biden Io non credo E voglio essere molto chiaro In questo Che non cambierebbe nulla Se vincesse Trump Perché in politica Sono i toni In politica Anche in politica internazionale Sono i toni Che fanno la musica E in questo mondo Sfilacciato Complicato E con guerre E conflitti I toni di Trump Oggi Non del Trump Di qualche anno fa Creerebbero Qualche problema in più A questo mondo Quindi al di là Delle politiche E guardando con il suo binocolo Il nostro paese Oltre a questi scenari Internazionali Così Turbolenti Come lo vede? Non mi riapra Un dibattito politico Perché lì Non ci andiamo proprio Potrei fare Potrei fare come Non ha fatto il sottosegretario Che ha detto Io mi occupo di politica monetaria E non di politica fiscale Però lei ha detto Però ne ha parlato Io mi occupo di politica internazionale Non di Italia Però rispondo alla domanda Allora Se uso il microscopio O anche un pochino più Del microscopio Darei la risposta Sull'Italia Che ha dato L'economist Che non le imbrocca sempre Sulle cose che dice Ma ha detto So far so good Anzi io direi Più che good Very good È stato ricordato prima Stiamo andando benissimo Facciamo figure internazionali Strepitose In tutti i campi Non prevedibili Dall'Ucraina Rapporti con Orban Andiamo in Egitto Andiamo in Tunisia Andiamo Perfetto L'economia È stato ricordato Andiamo meglio Agli altri paesi Anche i ricchi piangono In questo momento I nostri amici tedeschi Sono messi peggio di noi Lo spread scende Bingo Però uso anche Per un secondo Usiamo Senza chiudere Sulle note di pessimismo Credo che il tono Di tutto il panel Sia stato di realismo E di Non di pessimismo Ma neanche di ottimismo Beccolo Chiudiamo col grand'angolo Un secondo Voi vi ricordate Che vent'anni fa Un economista Il capo economista Di JP Morgan Inventò Questo concetto Dei BRICS Dicendo Fra vent'anni Questi paesi Ci scavalcheranno Vi ricordate Sembrava una stupidata E non ci ha azzeccato Perché dei cinque paesi Due sono andati avanti Tanto La Cina e l'India La Russia Si è incartata da sola Il Sudafrica È andato per la sua strada E il Brasile È andato così e così Quindi queste previsioni Vent'anni Non sempre ci azzeccano Però non ci hanno sbagliato Del tutto Allora Se noi andiamo a guardare adesso Le previsioni a vent'anni Delle prime dieci economie Del mondo Noi vediamo Una grande sorpresa Vediamo che fra vent'anni Nelle prime dieci economie Del mondo Entrano tre paesi Il Messico L'Indonesia E il Brasile E escono tre paesi E quali sono i tre paesi Che escono? La Russia Non ci sorprende più di tanto Ci sorprende che vada così bene adesso Il Canada Ma chi esce maggiormente Chi scende di più È l'Italia E perché Qual è Perché l'Italia Gli economisti si commette su questo? Perché noi abbiamo tre problemi Già citati Uno Importantissimo Il debito Il secondo Abbiamo la demografia Che è una delle peggiori del mondo Il terzo È la crescita By the way Facilitando la crescita È stato il tema Di tutto l'incontro Aiuto anche a ricoprire il debito Ecco Quindi Questo è il tema Su cui dobbiamo discutere In questi giorni Si parla tanto di campo largo Giusto? Non so a che proposito Ma è un tema Su cui si dibattano Io credo Chiuderei col fatto Che a fianco del dibattito Sul campo largo Ci vorrebbe Quello che Padoo Schioppa Auspicava La veduta lunga E la veduta lunga È quella di non credere A chi dice Fa economia Previsione a vent'anni Ma neanche Evitare di rifletterci ogni tanto E su questo credo che sia l'impegno importante per noi Grazie Anche a Paolo Magri Tra Campolargo e Padoo Schioppa Temevo di dover ricominciare la discussione Ma invece torno al Presidente Luigi Conte Perché la sua relazione Ha innescato una bellissima discussione Devo dire Presidente Che c'è stata una partecipazione altissima Ho ricevuto tantissime domande I temi fiscali Il debito pubblico Le regole della professione Qual è, come dire Quello che lei si porta a casa Anche dalla conversazione Che c'è stata oggi Ma innanzitutto la mia relazione E la nostra relazione Perché è una relazione Di tutto quanto è stato fatto Sino ad oggi E ci tengo a dirlo Perché Gli stimoli A riportare Su carta E in parola Certi Certi valori Certi elementi Sono numerosi Io Per rispondere A quanto Ascoltato E a quanto registrato Dovrei star qui Un'altra mezza giornata Ma credo non ci sia Né il tempo Né la possibilità Mi preme soltanto Dire questo Beh, mi porto a casa Innanzitutto Un concetto Il concetto Del Commissario Cornelli Che ci ha Definito Infrastruttura del Paese E questo Mi sembra Per noi Un riconoscimento Importante Serio Adeguato Nei fatti Non nelle parole Mi sembra Altrettanto Vero Poter pensare Che Sia giusto Responsabile Come diciamo spesso Immaginare Un progresso Del Paese Attraverso Una serie di iniziative Che come correttamente Diceva Federico Freni Saranno iniziative E gli altri esponenti Del governo Del Parlamento Saranno iniziative Che devono Guardare Con appunto Attenzione A tutti i momenti Attuativi Beh Immaginiamolo Un percorso A vari obiettivi Di primo Di secondo Di terzo E di magari Ennesimo livello Vogliamo essere Parte Di questo percorso Cerchiamo di farlo Perché ricordiamo Una cosa Il risparmio È una dimora Una dimora Che va protetta Va curata E va trattata Come qualsiasi Dimora Diciamo Sia Sia possibile Evidenziare Perché è evidente Che noi Possiamo Dare un grosso Contributo L'abbiamo detto Nello spot Siamo Ci riteniamo Senza falsa modesta Esperti di connessioni E connettere Tutti questi ambiti Quello nazionale Quello internazionale L'ambito dei conti L'ambito del risparmio stesso Fino a quello Che può essere Fino a quello Che può essere L'azione Svolta da chi Come Come Cdp Enti come Cdp Porta poi Nell'economia reale Il denaro Credo che in questo contesto Il contesto delle imprese Che è un contesto Straordinario Il rapporto con Confessore Centri Perché ha una solidità Perché ci consente Di portare Di mettere a terra Qui davanti a tutti Diciamo La voce di chi non ha voce La voce dei cittadini comuni Che anche attraverso noi Attraverso Chi li rappresenta Può effettivamente Raccontare qualcosa Della quotidianità Di ciò che si vive ogni giorno E di quelle che sono le aspettative In un processo di crescita Che vorrà smentire Quella famosa Statistica Diciamo Pro futuro Noi siamo esperti Di connessione Provate a renderci Parte attiva Di questi processi Riteniamo Di poterci dare Noi stessi Degli obiettivi Perché Accompagnare Le famiglie italiane Al progresso Significa accompagnarle Alla crescita Economica Sociale E innanzitutto Culturale Di questo splendido paese Grazie Grazie ancora Al presidente A tutti I nostri speaker Anche a padre Benanti Che era in collegamento Perché nella seconda parte Della nostra plenaria Adesso sentiremo Dai leader Delle reti Quali sono i loro piani E priorità E grazie a voi Per la partecipazione Invito sul palco Dario Donato L'amico Dario Donato Che condurrà la seconda parte Della mattinata E noi ci vediamo Su Classi NBC Quando volete A presto Presidente Prova prova Eccoci qua Intanto Buongiorno a tutti Grazie anche Da parte mia È veramente un piacere Essere qui Con voi A Consulenza 24 Grazie Al presidente Dell'ANASF Luigi Conte Grazie Ad Andrea Cabrini È un piacere Salire sul palco Dopo Andrea Che è stato Anche il mio direttore In una vita giornalistica precedente Ma ci lega Grande affetto E grande stima Abbiamo sentito Quali sono gli argomenti Dal punto di vista Istituzionale Ci sono stati Ospiti molto interessanti La cinghia di trasmissione Verso l'economia reale La cassa depositi E prestiti Il Parlamento In quale direzione Sta lavorando Il MEF Il Ministero dell'Economia E delle Finanze Le sfide di carattere generale Ora Quello che vorremmo fare È provare In qualche modo A mettere a terra Le sfide Dei consulenti finanziari Perché poi In fondo Sono le sfide Che vi accomunano Naturalmente Paolo Magri Ha sempre un punto di vista Illuminante Utilizzerei la metafora Sua Cioè Dell'Europa Che si deve presentare Come una Ma voi come Come Anas Come consulenti Quando vi presentate Dai vostri clienti Siete l'Europa Quale che sia La società Da cui provenite Cioè le risposte Devono essere le stesse Avete una grande responsabilità Che è la responsabilità Di cui parlava anche Nel bel saluto istituzionale Il Ministro Delle politiche Del lavoro Marina Calderone Sono tante le sfide Le conoscete C'è quella Dell'intelligenza artificiale Non so se avete già E abbiate già Imbracciato La clava Di padre Benanti Ma secondo me Nonostante la metafora Sia anche un po' Forte per certi versi Saprete certamente Come utilizzarla Nel migliore dei modi E oggi parleremo Anche di questo Di come la tecnologia Che ci accompagna Le ultimi 20-25 anni Con la rivoluzione Di internet Adesso siamo forse Di fronte ad una rivoluzione Che può essere Anche più grande Anche più forte Per certi versi L'intelligenza artificiale Può essere vissuta Comunco pilota Di noi uomini Se sappiamo Se sappiamo governarla Se sappiamo anche Farle rispettare Il codice della strada C'è il tema generazionale Del passaggio generazionale È molto importante Leggevo studi recentemente Ma tutti li conoscete Insomma 55-56% Delle aziende italiane Ha Degli amministratori delegati E o fondatori E o proprietari Che hanno più di 50 anni L'80% Forse di più Sono di carattere familiare Ad impronta familiare Immaginate che lavoro Avrete da qui Ai prossimi 10 anni Forse non lo immaginate neanche È difficile anche per noi commentatori Provare a capire Il genere Veramente di rivoluzione Che si potrà fare Nel vostro mestiere Da qui ai prossimi 10 anni Anche con l'aiuto della tecnologia Nel rapporto con le persone Sono persone che avranno bisogno Di fare passaggio generazionale Ai figli A nuovi consulenti A nuovi ingressi Nel mondo del lavoro Poi c'è Certamente il tema La gender equality Quello che abbiamo E che proviamo a fare Anche quest'anno È affrontare Tutte queste tematiche In maniera verticale Con ognuno di voi I capi delle reti Hanno grandi responsabilità E poi sottendono Naturalmente Dei temi comuni Chiamo sul palco Stefano Volpato Direttore commerciale Di Banca Mediolanum A un piacere Quest'anno Siamo equanimi C'è stato un grande processo Democratico Interno all'associazione Per cui L'anno scorso Siamo partiti da là Quest'anno partiamo Dalla V L'unico un po' sfigato È Gerardini Che sarà sempre in mezzo Da una parte E dall'altra Che salutiamo Ma questo succede Già dai tempi Delle interrogazioni Al liceo La demografia È uno dei temi Che è stato toccato Ed è uno dei temi Che più ci affligge Non è che l'Europa Se la passi bene In generale Però in Italia Quello che si chiama Tasso di sostituzione Certamente in questa fase qui È davvero molto complicato E la demografia Lo scenario demografico Volpato Incide moltissimo Sul tema del risparmio Della protezione Del risparmio Le vite si allungano Ci sarà anche Un passaggio generazionale Tra poco E il consulente È un educatore L'ha detto prima anche Luigi Conte Il presidente dell'anno Voi avete un ruolo Che è molto importante Che è anche quello Di educatore Di proteggere il risparmio Come educatori Prego Certo Ci possiamo anche Questi sono ad usum nostro Possiamo usarli o anche no Io li trovo sempre Estremamente scomodi Benissimo Allora Come diceva Raffaella La carrà bisogna sempre Stare scomodi Quando si è in televisione Sugli sgabelli Non usiamoli Che così è ancora meglio Beh intanto Buongiorno a tutti Ho ascoltato insieme a voi Le relazioni Che ci hanno preceduto E devo dire Che quando penso A quel mestiere Che ho iniziato a fare 37 anni fa Perché 37 anni fa Sono diventato Consulente finanziario Beh Devo dire Che è un mondo Che si può guardare Sotto mille prospettive A me piace pensare Che è molto importante Essere estremamente Basici Ed essenziali Allora Che futuro Abbiamo noi Beh Io credo che È un futuro Entusiasmante E Il fatto Che lo è Non lo dico io Che può valere anche poco Lo dicono I numeri E i temi Che introducevi te Quelli della demografia E tanti altri Ci spiegano Perché Quando ho iniziato A fare questo mestiere Era l'86 Mi hanno descritto Questo mestiere Come il medico Del risparmio E allora Se faccio il medico Del risparmio Il mio futuro Dipende da quello Dei pazienti Che noi Di cui noi ci occupiamo Beh A novembre È uscito Una relazione Estremamente Puntuale Ed attendibile Perché forse La più autorevole Che abbiamo Quella del Censis Sì Luci e ombre Il titolo Il titolo È emblematico Perché definisce Noi italiani Dei sonnamboli Cecchi Dinanzi Al presagio Poi Indicano Una serie Di numeri Che sono Veramente Drammatici Perché parlano Di un'Italia Con quattro milioni E mezzo Vediamoli scorrere Li vediamo scorrere Quattro milioni E mezzo Di persone Ma Il punto Più importante È che avremo Nove milioni E centomila Persone In età Contributiva In meno Questo ha Un effetto Che ovviamente Tutti quanti Noi Siamo in grado Di comprendere Dal punto di vista Previdenziale Assolutamente Preciso Non solo Perché per esempio Dal punto di vista Della sanità Passeremo Da 131 miliardi Di spesa A 177 miliardi Quindi Altro dato Estremamente Drammatico Il punto Di pareggio Nelle nascite È molto distante Poi c'è un altro Tema importante Che è quello Legato Ai nostri figli La totale Autonomia Finanziaria Dei ragazzi Oggi Arriva Estremamente Tardi C'è Un aspetto Sociale Nuovo Che già oggi Più di una famiglia Su tre Ha un familiare Non autosufficiente A carico Se poi Proseguiamo Su questo tema Manteniamo Ottimismo di fondo Mentre vediamo i numeri Sì È un invito Questo Sottende Qua siamo tutti ottimisti Ma io dico Che per uno Che fa il medico Ah no certo Il paziente Deve sempre stare Un po' Che per uno Che fa il medico Sapere di cosa Si deve occupare È assolutamente Emblematico Poi Siamo nell'era Della famiglia Unipersonale Se andiamo a Milano Oltre il 60% Della famiglia Sono famiglie Unipersonali Abbiamo sentito Prima che si parlava Del tasso di sostituzione Tra reddito e pensione Totalmente inadeguato E la vita media Che si allunga La battuta è giusta Se tutto va bene Siamo rovinati Vero Vero Come concetto Però vi voglio ricordare Che in Italia Abbiamo una risorsa Straordinaria Siamo un paese Che ha uno stock Di ricchezza Molto importante 5.600 miliardi Abbiamo un'attitudine A risparmio importante Circa il 10% Del reddito Anno lordo Qual è il vero problema? Il vero problema È la mancanza Di efficienza Nell'utilizzo Di queste risorse Leggevo uno studio Recentemente E' colpato Il 30% Circa Ancora Pensi con l'inflazione Quest'ultimo anno e mezzo Ancora E sui conti correnti Quindi Per questo voi siete Degli educatori fondamentali Ma io credo Che il nostro ruolo Ed è Il nostro futuro Sia a tutti quanti Noi Stato molto chiaro Se il 12 di febbraio Abbiamo aperto Il sole 24 ore Il sole 24 ore Pubblicava dei dati Di banca d'Italia Dove questo primato Che tutti quanti Noi decantavamo Siamo il paese Con la più grande Ricchezza Eccetera E' stato Ampiamente Smentito Perché? Perché ci hanno superato Tutti Ci hanno superato I francesi Ci hanno superato I tedeschi Gli americani Sono ampiamente Davanti a noi Tutto quanto Questo E la ricchezza pro capite Che era Il nostro punto di forza Non lo è più Non so se la regia Ha i dati Se andate a vedere Nel decennio 2011 2022 La Francia Ha incrementato La propria ricchezza Del 40 La Germania Del 84 E 3 Gli Stati Uniti Del 150 Per cento E noi Del 10 15,5 Io credo Che qui ci sia Veramente La risposta Sul nostro futuro Come interveniamo? Io penso che Basta fare un confronto E comprendere Come questa Non è una classifica Teorica Avere 409 800 euro Anziché 176 300 Per far fronte A quella A quei temi Che abbiamo visto prima Fa tutta quanta La differenza Del mondo Perché Gli Stati Uniti Sono in questo Tipo di situazione Hanno Molto meno Immobili Hanno Una Partecipazione Al mercato Dell'economia Reale Totalmente Diversa Dal nostro Perché Sono il 42,5 Contro un 12,5 Ovviamente Parliamo qua Di partecipazione Ai mercati pubblici E il terzo punto Secondo me È l'emblema Di quello che ci aspetta Cioè Quante famiglie americane Interloquiscono Con un nostro collega Rispetto a noi Lo vediamo Nei numeri Il 46,8 Della ricchezza Americana In mano A un consulente finanziario Nel nostro caso Il 17,5 Questi sono numeri Dopo ne discutiamo Anche con Paolo Di Grazia Di Fineco Sono numeri Che però Leggetela voi In positivo Come categoria Siete all'inizio Del Gran Premio Io credo 40 anni di storia Ma all'inizio Del Gran Premio Io credo Che se non usciamo Da questa sala Entusiasti Sarebbe piuttosto grave Noi abbiamo Un futuro Incredibile Che nasce Dalla capacità Di andare a fondo Su quello che è Il nostro ruolo Che è un ruolo Etico Sociale Importante Dove possiamo Fare veramente La differenza Per milioni Di famiglie italiane Io ripeto Ho sempre ragionato Di là del ruolo Che copro Da consulente finanziario E penso Che la forza Che ho sempre avuto Quando incontravo Un cliente Quando incontro Un cliente Nasce Dalla consapevolezza Di essere Utile Alle persone La magia Del nostro Mestiere E la magia Che c'è Nel nostro futuro Sta nel fatto Che possiamo Pensare Ad obiettivi Nostri Molto più Importanti E che Raggiungerlo Dipenderà Dalla capacità Di dare risposte Puntuali Alle persone Mi sono Segnato una cosa Nel salutare Avvolpato Che ha detto Padre Benanti La fiducia Non è surrogabile Effettivamente è vero Ma io credo Che la fiducia Che voi avete Nel vostro rapporto Personale Con le persone Che incontrate Può arrivare Qualsiasi cosa L'intelligenza artificiale Raddoppia di potenza Ogni 4 mesi circa Potranno passare Degli anni Potrà passare Tutto quello che volete Ma la fiducia Non è surrogabile Ma io credo Che chi fa questo mestiere Mette insieme Tre grandi competenze Che sono Quella tecnica Che è quella Di riuscire A comprendere Che cosa c'è Dietro i soldi E qual è il senso Del nostro lavoro Quella relazionale Che contiene Anche ovviamente La fiducia E poi quella Della gestione emotiva Quindi quando io sento Parlare ovviamente Di tecnologia Sono felicissimo Ritengo Che il futuro Di tutti quanti noi Passi Per la capacità Di integrare Nel nostro modello La tecnologia Avendo chiaro Che il fattore umano È insostituibile Stefano Volpato Grazie Direttore commerciale Banca Mediolanum Grazie 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 E naturalmente Adesso Lo capiremo insieme Però ci sono Dei temi Che sono Dei temi Trasversali Per tutti voi E quindi Mi interessa Anche personalmente Capire Come i capi Delle reti La pensano Su quelli Che potremmo Chiamare Che voi Tante volte Magari chiamate Megatrend Nicola Viscanti Head of Advisor Banca Uidiba Un applauso E qui Ci concentriamo Su una cosa Che riguarda tutti Direi che prima Riguarda i risparmiatori Come può cambiare La regolamentazione E riguarda anche Le tasche Dei consulenti Finanziari Ciao Nicola È un piacere Che riguarda Un trend Normativo Che vedremo Quale sarà Sostanzialmente L'output Di questa cosa Però La remunerazione Vi riguarda Vi riguarda tutti In Banca Uidiba Da questo punto di vista Che cosa state facendo Come vi state approntando Che cosa raccontate Anche Ai vostri clienti Quando Vi approcciate Posso provare? Si può Si si Puoi Posso farti prima Una domanda? Io Come lo scorso Lo scorso anno Ti invitai A diventare Guarda che noi abbiamo 7-8 minuti a testo Te lo bruci con la domanda Ce la facciamo Io sono qui per essere Arbitro Inflessibile Qualcuno di voi lo sa Io ho anche trascorsi Con il calcio Diciamo a Mediaset Quindi so essere So essere arbitro Sei diventato cliente Di un consulente finanziario? Allora Me l'aspettavo Devo dire Me l'aspettavo Te lo feci lo scorso anno Hai ragione Quello che ti posso dire È che Visto che Diciamo Io sono un libero professionista Come Magari qualcuno di voi Fiero Sono molto coperto Con polizze finanziarie Ho più polizze io Di Jennifer Lopez Per intenderci Quindi sono copertissimo Ma Sì 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 Hai perso un minuto Recuperiamo Dunque Il tema della remunerazione Secondo me Andrà a cambiare molto La professione Nei prossimi anni Questo è uno dei grandi Dei grandi cambi di paradigma Se ci fosse la possibilità Io intervisterei Tutti i presenti Ognuno di loro E fare la domanda Come sarà la professione Tra 3 e 5 anni Perché tutti hanno parlato Prima Dello sviluppo Della nostra professione Mi aspetterei Qualche azione Un po' più concreta Per attrarre più giovani A questa professione Dopo ne parliamo E quindi anche Le percentuali di crescita Dovrebbero aumentare Non potendo fare Le interviste Mi avvalgo Di una Recente ricerca Fatta da Finer Di Nicola Ronchetti Sul tema Che salutiamo È la Sempre presente Sul segmento Della clientela private Sì Cosa dici Addirittura L'85% Degli intervistati Dice semplicemente Che i clienti Di fascia più alta Patrimonializzati Gradiscono La consulenza A parcella Per tre motivi principali Il primo Praticamente Una Riduzione dei costi Perché loro sono Più esigenti Rispetto agli altri clienti Quindi Maggiori prodotti Più trasparenza E anche Un'attenzione ai costi Il secondo elemento Per fondamentale Che mi ha colpito Di questa intervista È che Il successo Del private banking Sarà sempre più orientato Ad una consulenza patrimoniale Quindi Due elementi fondamentali Partendo proprio Da questi due elementi Che mi hanno colpito Cosa sta facendo la banca Semplicemente Ha confermato Qual è la nostra strategia Noi con la consulenza A parcella Che chiamiamo Consulenza di fatto globale Il consulente finanziario Lo stiamo invitando Ad uscire Dalla logica Del gestito Non parliamo più Di gestito Noi parliamo Di portafoglio complessivo Dove Il consulente finanziario Ovviamente Con la nostra piattaforma E quindi con Diciamo la tecnologia L'intelligenza artificiale Inizia a costruire I portafogli Dove c'è Un pezzo di gestito Ma deve essere Veramente gestione attiva Quindi generare alfa Può esserci il BTP Perché su alcuni mercati Particolamente efficienti È meglio prendere Un ETF Piuttosto Che Un ETF Piuttosto Che Un fondo Che non riesce A generare Quel plus Che il cliente Si aspetta Ma ovviamente Ci mettiamo anche Il BTP Visto che Proprio oggi Visto che c'è il sottosegretario Freni Ma semplicemente Ecco perché bisogna fare Il mix di tutti i prodotti Considerate che L'hanno citato prima Su un'offerta di 5 miliardi Sono arrivati 41 miliardi Praticamente di domande Quindi è significativo Anche l'attività Quindi è inutile andare Contro mercato Seguiamo E iniziamo a creare Dei portafogli Sempre più Diversificati Altro aspetto I portafogli così composti Con strumenti Decorrelati Abbassano la volatilità Del portafoglio E posso dire Che in molti casi Riducono i rischi Di conseguenza E riducono anche I costi Nel fare questo Visto che si è parlato Di andare su La componente azionaria Cosa stiamo facendo Utilizzando sempre La nostra piattaforma Dove il cliente Se oggi pensa Di voler entrare Sui mercati azionari E ovviamente Siccome siamo Ai massimi Stiamo vedendo anche Il nostro indice Invece di entrare Con un portafoglio E comprare subito La componente azionaria Noi abbiamo Introdotto La consulenza programmata Quindi io Non compro oggi Praticamente Utilizziamo La tecnica del PAC Sui grandi portafogli Due cose Maggiore trasparenza Sostanzialmente Mi sembra che sia il tema E l'altro Questo passaggio Anche concettuale Dalla consulenza finanziaria Alla consulenza patrimoniale E ormai Voglio dire Inevitabile Noi gestiamo Praticamente I patrimoni Delle famiglie E' chiaro Che noi dobbiamo Cercare di Attrarre tutte le famiglie Ma non ci nascondiamo Che il consulente finanziario Tendenzialmente Segue le famiglie Di fascia medio alta Perché sono più complesse E hanno Maggiore esigenze Queste famiglie Vogliono ormai L'analisi immobiliare L'analisi aziendale Vogliono parlare Di pianificazione Successoria E magari Parlare anche Di pianificazione Previdenziale Visto che Il tema della pensione E' In qualche modo Volto sensibile Per gli italiani Lo dice la demografia Hai provato a mettermi In difficoltà Ti faccio una domanda Giornalistica Io in questo caso Sono osservatore esterno La parcella La parcella Proporzionalmente Non rischia Di mangiarsi Quella parte Di clientela O in qualche modo Di svantaggiare La parte di clientela Che ha meno patrimoni Da mettere a disposizione Del consulente Cioè come affrontate Questo tema Noi lo affrontiamo Con un principio base La nostra banca Che è la libertà di scelta Allora è chiaro Che noi abbiamo Diversi modelli Di consulenza Addirittura ne abbiamo tre Dove a seconda Del tar di clientela Il consulente finanziario Decide se adottare Una strategia Piuttosto che un'altra Noi essendo poi Una banca giovane Quest'anno festeggeremo I dieci anni Dalla nostra nascita Siete dei ragazzini Sì Però sappiamo camminare E correre Certo Praticamente utilizziamo Molto la tecnologia Che mettiamo a disposizione Dei clienti Quindi siamo una banca Attrattiva sia sui giovani Ma sia Sia anche sulla clientela Che deve fare Il passaggio generazionale Ti faccio quest'ultima Quest'ultima domanda Già l'abbiamo Sostanzialmente Abbracciata Diciamo Ma come vedi L'evoluzione Da qui A 4-5 anni Della vostra professione Dato che le variabili Intervenienti In questo momento Sono moltissime E forse sono anche Più forti Di dieci anni fa Quando siete nati Lario Il tema dell'industment Per il momento È stato parcheggiato Ma tra 2-3 anni Probabilmente Se ne andrà a riparlare Quindi non so Come si evolverà La professione Nei prossimi 3-5 anni Personalmente Difficile fare Delle previsioni In un contesto Del genere Io quello che Suggerisco Ai consulenti finanziari Proprio in virtù Di questa incertezza Iniziamo pian piano A educare il cliente A una logica Di parcello In una logica Di prodotto Una logica Da libero Professionista Quindi essere pagati Come se fosse Un qualsiasi altro Professionista Ovviamente È un percorso lungo Perché la nostra Professione è giovane Quindi il cliente A parte la cultura finanziaria Quindi va accompagnato Il cliente I clienti stanno recependo Questo messaggio Assolutamente sì Soprattutto c'è massima Maggiore trasparenza E poi io non voglio andare Contro il mercato Dire no BTP BTP è un elemento importante Visto che ne abbiamo parlato Di una diversificazione Sempre più ampia Quindi è quello che dico Maggiore trasparenza E se vogliamo Il consulente finanziario Si sente anche più indipendente Rispetto a una politica Di prodotto Io dico sempre I consulenti finanziari Siate liberi Di scegliere Grazie Nicola Viscanti Head of Advisor Banca Uvidiva Ciao Nicola Grazie mille Allora Andiamo avanti In ordine Analfabetico Come si dice Mario Ruta Vice direttore generale Di Allianz Bank So che deve scappare Entro le 12 e 30 Abbiamo il tempo necessario Se sale con la giustifica Lo aspettiamo C'è un tema Un applauso Dov'è? Eccoti qua Scusami Ero rivolto Ciao Ciao Ero rivolto Dalla Dalla fascia sinistra E fascia destra Allora Tra i tanti temi verticali Che affrontiamo Quest'oggi Naturalmente Imprescindibile Molto importante Fa parte Sostanzialmente Dei temi Che si affrontano In tutta l'economia italiana In tutti i settori Ed è significativo Che è quello La gender equality Del lavoro Di come anche Agevolare Rendere produttivo Il lavoro femminile E come A me verrebbe da dire Sfruttare in positivo Quel tanto in più Che può portare L'approccio femminile In tutte le professioni Immagino Non solamente Quello del consulente finanziario Voi avete introdotto Il tema anche Della certificazione Della parità di genere All'interno della vostra rete Cioè che cosa significa Per intenderci Allora Innanzitutto Fammi fare questa premessa Perché da auditore Prima seduto Ho visto un'ANASF Molto più integrata Con il sistema paese Ma soprattutto Con le sfide Che noi come Diciamo Reti Dobbiamo affrontare Fra queste appunto C'è La sfida La gender equality Noi questo percorso L'abbiamo iniziato Nel 2018 Abbiamo istituito All'interno Della nostra organizzazione Una commissione Permanente Fatta dal top management E da alcune Consulenti finanziari Proprio volta A massimizzare Quello che è Lo sviluppo professionale Delle donne All'interno Delle reti E ci siamo dati Appunto Una sfida Molto importante Che era quella Di certificarsi Attraverso un istituto Internazionale Che andasse a misurare Tutta una serie Di parametri In corrisponenza Dei quali Si potesse Garantire La crescita All'interno L'organizzazione Delle donne Qual è il problema Però Che questo istituto Di fatto Certificava Delle organizzazioni Dipendenti Quindi ci siamo Trovati a fronteggiare Questo aspetto legato Ai liberi professionisti E quindi Ci siamo forzati In maniera positiva Nell'andare ad adottare Tutta una serie Di presidi Lo diceva prima Il presidente Conte Qualcun altro Prima del panel Che andassero In qualche modo A tutelare La donna In quelli che erano I momenti Di discontinuità Che per quanto riguarda Loro Sono la maternità Oppure l'assistenza Alle persone Fragili Quindi abbiamo istituito Tutta una serie Di presidi Di welfare Noi abbiamo Una partnership Con un provider Che si chiama Village Care Che offre Questi servizi Ai nostri Consulenti finanziari Di donne Proprio per assistere Le persone fragili E quando ci sono Altri momenti Di discontinuità C'è un presidio Operativo specializzato Da parte della sede Che assiste Le consulenti finanziari E poi naturalmente Ci sono Nei presidi Di carattere economico Tutto questo Ci ha portato Di fatto In questa fase Di pre-audit Che è stata fatta Da questo istituto Che si chiama Winning Women Institute Che è un istituto Internazionale E siamo praticamente Quasi Arrivati alla certificazione In questo senso La tecnologia Come aiuta Abbiamo visto Durante la pandemia È stato un driver Straordinario Per permettere Sostanzialmente A tutti Di lavorare Nella vostra professione Posso solo immaginare Conoscendo molti di voi So come Come è cambiata Per certi versi Come è stata in grado Di stare Di coltivare Ancora la relazione Con le persone Con i clienti Nonostante la distanza Che in quel momento È rafforzato Però Per le donne In questo caso Può essere Una maniera Molto utile Di conciliare Sostanzialmente Gli equilibri Vita privata E lavoro Come la sfruttate? Diciamo che Questa Digitalizzazione Forzosa Che si è avuta Chiamiamola così Col covid Ha portato Ma questa Non è una novità Sulla nostra organizzazione Ma posso parlare Anche per le organizzazioni Che sono qui Rappresentate in sala A mettere su Tutta una serie Di attività Di web collaboration Di operatività A distanza Che comunque In generale Hanno aumentato Quella che era La produttività Dei consulenti Ma in particolare Hanno aiutato Appunto le donne Nel fare Nel fare L'attività Quindi possiamo dire Che ci siamo legati A un trend Che era già in atto Nell'industria Che però Ha dato la possibilità Ai consulenti Finanza di donne Di riuscire A fare l'attività Anche In quelle situazioni Di discontinuità Di cui vi parlavo prima Quindi Abbiamo investito In passato In queste attività La cosa che ci ha fatto piacere È che nel momento in cui C'è stata una Più grande discontinuità Legata al covid Certo Eravate già pronti Abbiamo incassato Il famoso dividendo Della tecnologia E quello che In qualche modo Ricevete Dai vostri clienti Rispetto a questo Ha un approccio Che può anche essere Mediato Da una videocamera Immagino non spesso Ma quando serve Che genere di feedback Avete Allora Come ti dicevo prima I clienti Sono stati forzati Quindi per tutta la parte Diciamo Transazionale Del business Transazionale Loro apprezzano E soprattutto Pretendono Perché hanno Diciamo Sperimentato Lo speed Hanno sperimentato Il fatto che Si potevano scaricare Finalmente Certificate A livello digitale Quindi Sulla parte Transazionale Del business La tecnologia Aiuta Quando tocchiamo Diciamo Aspetti Che riguardano La consulenza In senso stretto Qui mi ricollego A quello che diceva Nicola Bisogna lasciare Anche la libertà Sia al cliente Sia al consulente Di trovare Il fine tuning giusto Di scegliere la relazione A livello personale O diciamo Digitale Per chiudere C'è anche un tema Di ricambio generazionale No? È naturale Succede nelle imprese Succede anche All'interno della vostra professione Nella vostra relazione Mi è piaciuto Che cosa ha voluto Puntualizzare Presidente Conte Nella vostra relazione Si parla di Ponte generazionale Questa coabitazione Delle alterità Tra chi è più senior Chi è più giovane E chi è più entra Esiste Lo affronteremo anche dopo L'istituto del team Voi come state affrontando Questo altro cambio paradigmatico? Lo affrontiamo E qui ti do un dato Con il 40% Della nostra rete Che già lavora in team Noi abbiamo traguardato Questo importante risultato L'anno scorso Abbiamo quasi 11 miliardi di masse In team E devo dire che il team È quell'incubatore Che in qualche modo Secondo me Ci darà la possibilità Di affrontare Questo grande tema Di ricambio generazionale Perché Stamattina Ero a colazione In hotel Che è successo? Era buona? No, io mangio poco Giustamente Se riesce a dire su un palco Ma giusto Avevo accanto a me Diciamo Un signore Con un ragazzo giovane Di fronte Questo signore Ho trovato un collega di Fideuro Ma era del tutto casuale Fabio Perché questo signore Mi ha chiesto Per quale casa di gestione Lavori Ho detto Non ancora Però un messaggio subliminale E mi sono trovato Di fronte Un padre E un figlio Appunto Di professioni Consulanti finanziari È una passione Che si tramanda E il padre Mi parlava Di questo pionierismo Di queste telefonate A freddo Che si facevano Tanti anni fa Che hanno portato A avere questo grande successo Cosa che adesso Però è molto difficile E dall'altra parte Però il figlio Mi parlava Di questo entusiasmo E di come Ormai anche quello Che l'ambiente accademico Riconosce Alla professione Io penso Che da questo Bisogna partire Per favorire Poi il ricambio generazionale Nelle reti Dall'entusiasmo E dal fatto di Aiutare i giovani Ad entrare nella professione In un ambiente protetto Un applauso Mario Ruta Vice direttore generale Allianz Bank Mantieni questo spirito Pioneristico Lo spirito Pioneristico Serve un po' In tutte In tutte le professioni Naturalmente È sempre importante Ma anche attraverso Gli esempi Si capisce la passione Con cui fate Il vostro lavoro Duccio Marconi Vice direttore generale Di Mediobanca Premier Ogni tanto Ho la labirintite Ciao Un piacere Allora Tra le tante tematiche Che naturalmente Quest'oggi E in questi tre giorni Di consulenza 24 Si affrontano C'è quella Dei giovani Come ci siamo Abbiamo fatto qualche chiacchiera Prima di salire Su questo palco E personalmente Interpreto Il tema dei giovani Se vogliamo In maniera bidirezionale Cioè i giovani Che devono essere attratti Dalla vostra professione Perché È estremamente Interessante Veloce Rapida Versatile Direi che risponde A tante delle esigenze Dei giovani Dei giovani di oggi Che faticano Lo vedo Lo vedo anche Rispetto a chi fa la mia professione Ragazzi più giovani Che vogliono fare i giornalisti Eccetera Fatica a stare su una sedia Tutto il tempo Ma vuole muoversi Conoscere Stringere relazioni Dall'altra parte C'è anche questa necessità Di intercettare I patrimoni E le esigenze Che cambiano Di questi giovani Perché da qui Ai prossimi dieci anni Sostanzialmente La ricchezza Dei baby boomers Andrà Verso quelli che oggi Sono dei giovani Quindi come vi ponete Rispetto a queste due dimensioni Sì Allora Quello del tema Della longevity economy Come l'ha definita Nella lettera Che ha letto il presidente Il ministro Calderone È un tema veramente Importante Si affronta appunto Su due livelli Quello dei giovani Che si avviano al lavoro È un problema Che riguarda tutte le categorie Io ho una figlia Che ha 27 anni È diventata dottoressa Siccome c'è carenza di medici Adesso con la laurea Sei già abilitato Fai prima il tirocinio Quindi era già abilitata A operare Gli hanno già dato Mille pazienti Operare in campo medico Sì sì Io ho una compagna santa Che è un medico d'ospedale La salutiamo E so che cosa vuol dire Che li facciano operare Prima della laurea Ecco se me lo dicessero Operare diciamo Nel stare servizio Diciamo Quindi Si parla adesso addirittura Quindi mentre fa la specializzazione Di dare già appunto i pazienti Quindi cioè Già la professione dei medici Ci fa vedere che c'è carenza Di giovani Se pensiamo al nostro Al nostro diciamo Settore Io quando sono entrato Nella professione Ci ha detto prima il Presidente Che Oggi l'età media È arrivata a 52 Nel 2002 Quando io ho iniziato a seguire I consulenti finanziari Era 40 anni Io all'epoca ne avevo 30 Adesso ne ho 52 Come l'età media Cioè è una Categoria che sta invecchiando Progressivamente Quindi il tema Che abbiamo tutti Come reti Di attirare dei giovani promettenti Anche per passare i portafogli Per il passaggio appunto Diciamo dei portafogli Dei nostri consulenti Che vanno Certo In pensione Verso i giovani Questo però è un tema Che non è solamente Un progetto di Inserire dei giovani Dare dei contributi Dare formazione È qualcosa di più complicato Perché Questi ragazzi Come dicevi tu Hanno abitudini E metodologie di lavoro Completamente diverse Posso permettermi di dire Anche una testa diversa Rispetto alla dimensione Dei soldi Voi assisterete Un sacco di grandi manager Top manager Imprenditori Tutto quello che volete Se negli ultimi due anni Gli chiedete Quando capita di fare Dei discorsi Ai ragazzi Quali sono i primi driver Dell'accettare O meno un posto di lavoro I soldi Ormai sono diventati La seconda O la terza voce Cioè la possibilità Di viaggiare La possibilità Di essere versati Di lavorare Da dove Più o meno Dove si vuole Finalmente si inizia A parlare anche un minimo Di produttività In questo paese Anemico Da quel punto di vista Quindi mi rendo conto Che i giovani Hanno esigenze diverse Quindi La necessità Di avere contratti Di lavoro flessibili Quindi la possibilità Di avere contratti Che permettono Di lavorare In maniera diversa La gestione in team Ne abbiamo parlato Ne riparleremo Un modo per imparare La professione In cominciare a gestire I clienti In affiancamento A consulenti senior Anche la tecnologia Noi Mediobanca Premier Stiamo testando E quindi Saremo i primi Credo in Italia Forse in Europa A fare la raccolta ordini La proposta di consulenza Tramite video Quindi con l'app Tu fai un video Con clienti giovani La registri La archivi Ed è già valida Come raccolta ordini No Tutta una serie di cose Soprattutto Sono ragazzi giovani Quindi L'idea non solo Della gestione in team Ma di lavorare Con gli specialisti No Quindi abbiamo attivato Delle strutture di direzione Che nell'ambito aziende Corporate Passaggio generazionale Quando tu sei del cliente Affiancano il consulente Nell'operatività Nella trattativa Perché poi sono persone Che non hanno l'esperienza Delle persone qua in sala Quindi Questo va affrontato Secondo me Non è solo l'idea Di dire Vieni sei un giovane Ti faccio formazione Ti do una fee Ma va affrontata Con una metodologia Di lavoro Diversa L'atto clienti L'aspettativa di vita Oggi degli italiani Di 84 anni Come dicevi tu È la prima volta Che ci troviamo a servire A clienti Di 5 generazioni Sempre mia figlia Mi dice che sono un boomer Non è vero Perché Io non le ho mai capite Le definizioni Onestamente Io sono una X Dovresti essere una Y Z Alpha Quindi abbiamo 5 generazioni Benissimo E La verità è che Se approcci questi clienti Devi approcciarli In maniera diversa Certo Anzi Noi stiamo introducendo Un po' il concetto Di fare una consulenza finanziaria Visto che ormai Il passaggio generazionale È alle porte Le statistiche dicevano 5.300 miliardi di risparmi In 5 anni Dovrebbe passare di mano Il 10% di questi risparmi Pensate voi Quindi È chiaro che la consulenza Non è più una consulenza Al nostro cliente Che ha Diciamo Che ha i risparmi Ma è più una consulenza Alla famiglia Come diceva il Presidente È una consulenza Nel ciclo di vita Dei clienti Perché Noi Mediobanche Premier Dobbiamo gestire Sia il passaggio Generazionale Di masse Di risparmi Che è relativamente Più semplice Ma il passaggio Anche delle aziende In Italia Abbiamo 6 milioni Di partite IVA E Anche la popolazione Degli imprenditori Inizia a essere Vecchierella Lo dicevamo prima Ti ribalto però Il punto di vista E la domanda Come l'inverno demografico Incide sul business Dei consulenti Perché Anche questo Immagino che sia Per l'appunto Una realtà diversa Da quando tu 20 anni fa A 30 anni Ha iniziato Certo E impatta sul fatto Che oggi Non puoi più pensare Di approcciare Appunto Un cliente Con una consulenza Chiamiamola solo finanziaria Ma deve essere Una consulenza patrimoniale A 360 gradi Questo anche in vista Anche in vista Di quella che è L'evoluzione Della professione Di cui abbiamo parlato Ed è chiaro Che per fare questo Una soluzione Possono essere Convenzioni esterne Diciamo Con una serie Di player Che ti aiutano A completare Questa consulenza La scelta La scelta che abbiamo Fatto noi È tutta interna È tutta interna Per cercare di gestire La filiera A 360 gradi Qui il consulente Diventa secondo me Non solo un consulente Tecnico Ma un consulente Sull'emotività Dei clienti Quando parliamo Di passaggio generazionale Ricordiamo Che in Italia L'archivio unico Dei notaici Dice che solo Il 12% Degli italiani Ha fatto testamento Rispetto Agli USA Che parlano Di un 40-50% Quindi è chiaro Che quando si affrontano Certi temi Affrontare Questa carica emotiva Penso all'imprenditore Che deve cedere L'azienda ai figli Che non vuole uscire di scena Qui ci vuole Sia tecnica Ma anche emotività Quindi è molto importante Anche la formazione Per approcciare Questi temi Capire anche Nel passaggio D'impresa Se ci sono figli capaci Figli non capaci Quali sono le soluzioni Che possono variare Da un trust dormiente Alla ricerca Di un fondo private equity Quindi oggi Più che mai Credo che sia un mestiere Che dobbiamo imparare A fare come consulenti Non più con la voglia Di mantenere tutto Sotto controllo Il cliente è solo mio Quindi anche un po' Con morbosità Ma dobbiamo aprirci A una serie di specialisti Che ci aiutano A trattenere il cliente A svilupparlo Perché la consulenza È molto più strutturata Ti faccio quest'ultima Domanda Che poi riguarda Uno dei grandi temi Di questa giornata Che rapporto Cosa vedi con la tecnologia Anche tu La tecnologia Mi è piaciuto molto L'intervento Di padre Benatti Perché ovviamente Come la interpretiamo Adesso noi abbiamo cambiato Come sai Ragione sociale Come due banche Premier Ma il disclaimer Della vecchia Che banca Era Human Digital Quindi ci ritroviamo Molto in questa affermazione La tecnologia È necessaria Senza tecnologia Non puoi affrontare Le generazioni Alfa Y Perché sono abituate A utilizzare tecnologia Però per quel discorso Che facevamo prima Del rapporto Di fiducia E del giocare Diciamo La consulenza Sulle emotività Per noi Consulente È l'elemento Pivot Principale Di tutte le relazioni Si può avvalere Di tecnologia Di specialisti Di aziende Del gruppo Ma il pivoto Della relazione Rimane sempre Il consulente Grazie Duccio Marconi Vice direttore generale Mediobanca Premier Grazie a voi Grazie Grazie È stato un piacere Allora Andiamo Con rapidità Così poi Ci avviamo Verso la metà Della vostra giornata Dicevamo Di Federico Gerardini Responsabile Direzione commerciale Zurich Bank Che è sempre nel mezzo Che si parta Da una parte O dall'altra Un applauso Un po' più convinto So che siete Ciao Ciao Dario In medio Stat Virtus Esatto Esatto E anche in medio Stat l'interrogazione Quasi sempre Perché la mia professoressa Di matematica del liceo Quando scendeva con il dito Non poteva andare troppo in fondo Da dovunque partisse Si era sempre tra i primi Esatto Si finiva sempre in mezzo Il tema dell'educazione finanziaria All'interno della vostra rete Voi lo affrontate attraverso Un programma Che per certi versi Poi si connette anche al tema Al tema dei giovani Ma nella fattispecie Che cosa fate con Talent Next Gen Si Allora Talent Next Gen È un nostro programma Che abbiamo lanciato un anno fa Su un aspetto Che ritengo fondamentale E molto importante L'abbiamo detto L'hanno detto i colleghi Che mi hanno preceduto Lo dicono i dati Dobbiamo Dobbiamo Attrarre sempre più giovani Alla nostra professione Ma lo dobbiamo fare concretamente Perché l'anno scorso Ne abbiamo un po' parlato E dissi Bisogna scaricare a terra Farlo Coinvolgendo ovviamente Tutta la rete Perché questo è l'aspetto fondamentale Attrarre i giovani Si riesce ad attrarre i giovani Il punto di caduta Molte volte è Che una volta entrato Il giovane magari Può sentirsi smarrito Quindi cosa abbiamo fatto Abbiamo due programmi Per chi è già Iscritto all'albo Ovviamente C'è tutto un percorso Che prevede L'assegnazione di un tutor Senior all'interno Ovviamente dei gruppi Quindi il famoso ponte c'è Assolutamente sì C'è tutto un programma formativo Sia tecnico Ma anche comportamentale E relazionale Come diceva anche prima Il collega Volpato Ovviamente Un sostegno economico Perché nella fase Anche di apprendimento Costruzione Di quelle che sono le competenze Il giovane non deve essere Turbato Anche dalla Diciamo Stabilità finanziaria Quindi è fondamentale Togliere quella preoccupazione Lasciargli la mente libera Imparare Studiare Crescere Formarsi Su questo ci voglio arrivare alla fine Perché mi piace questo Come sapete io Amo anche un po' sdrammatizzare Cos'è un reddito da consulenza Che cos'è questa Questa cosa qua Che vi siete inventati Cioè non deve Pensare a fare dei soldi subito Può prima formarsi E voi gli date un sostegno Diamo un sostegno economico Assolutamente Entra Nel momento in cui Entra nella nostra rete Gli diamo un sostegno economico Per un determinato periodo di tempo Attenzione alle truffe No no assolutamente Tutto regolare Ci mancherebbe altro Ci mancherebbe altro La formazione In che cosa consiste? Abbiamo una formazione Sia tecnica Sì Perché ovviamente Le competenze tecniche Sono fondamentali Che vanno ad abbracciare Tanti aspetti Abbiamo visto prima Dalle slide di Volpato Il tema Del previdenza complementare Il tema delle spese mediche Che salgono Poi arriva a questo concetto Il tema Dell'assistenza Degli anziani Il tema ovviamente Della vita Che diventa sempre più lunga Lo formiamo Su competenze Che gli consentono Di dare una consulenza Più ampia Come diceva Marconi Prima Perché oggi Essere di fronte ad un cliente È fondamentale Capire la sua situazione E consigliarlo Su tanti aspetti Della sua struttura patrimoniale Della sua situazione familiare Perché oggi non serve O non basta solo investire Risparmi Ma bisogna anche aiutarlo Ad esempio A programmare il futuro Io la prima cosa Che dico a un giovane Tutte le volte che lo vedo È che hai iniziato a lavorare Hai fatto un fondo pensione La previdenza complementare Sì Viscanti l'ho fatto Dimenticarsi Io dico sempre Dimenticatevi di mamma O papà Stato Scegliamo il gender Dello Stato Dimenticatevi Questo concetto Che avete sentito Dai nonni E dai genitori La previdenza complementare Non ci sarà Ma dobbiamo programmare È uno dei grandi temi È uno dei grandi temi di oggi Mi alzo anch'io No Non voleva essere un invito Dopo un po' Se non mi sentivo Iniziare a fare i consulenti finanziari Attraverso questo programma E oggi È diverso Rispetto a iniziare 20 anni fa Perché ci sono più strumenti Perché ci sono i consulenti senior Che hanno già un expertise forte Perché c'è immagino anche La tecnologia Che prepara A diverse cose E anche perché le esigenze Sono diverse Le abbiamo ben rappresentate E soprattutto ci sono bisogni Più strutturati Da parte Non tanto dei clienti Ma mi piace anche Pensare al tema delle famiglie Si assistono le famiglie Assolutamente sì Entrare oggi Significa anche Avere la possibilità Di iniziare Tra virgolette Anche più velocemente Questa professione Una volta Acquisite le competenze Perché? Perché appunto C'è una notevole Necessità di ricambio generazionale C'è la possibilità Quindi Da un lato Di subentrare I consulenti senior Che hanno fatto Una grande carriera Che quindi si possono godere Adesso Dell'amata pensione E dall'altra parte Sono Il primo punto di contatto Di chi oggi Riceve un'enorme ricchezza I dati sono Alla portata di tutti Entro 20 mesi Passano 200 miliardi Di ricchezza Dalla generazione Di chi ha accumulato La ricchezza Durante il boom economico Alle generazioni attuali Che ovviamente Vive una situazione Magari non ha ancora iniziato A lavorare Più precaria E entro il 2030 Saranno 2000 miliardi È un'enormità Quindi È necessario Che una volta Seduti di fronte A chi riceverà Queste ingenti ricchezza Ci sia qualcuno Che parla la stessa lingua C'è niente da fare Hanno un modo di ragionare Diverso Hanno una velocità Di tipo diverso Hanno aspettative diverse Hanno obiettivi diversi E se Chi Parla quella lingua Non è di fronte In quel momento Nel consigliarlo Non avrà successo Quindi c'è il rischio Che poi Riceve la ricchezza E vada da un'altra parte E guardi a qualcuno Che Con cui può Diciamo dialogare Perché parla la stessa lingua E questo è Davvero fondamentale Io lo vedo Io ho un figlio di 7 anni Già parla una lingua Diversa dalla mia Mi sento quasi Dinosauro Può essere solo peggio Oggi il mio Ne compie 11 Perciò tra 4 anni Vedrai che cosa Poglio però Invertire l'onere della prova Per certi versi Mi piace il tema Di formare i giovani È importante Capita in tutti i lavori Capita anche nel mio Però vorrei parlare Di che cosa portano i giovani Quando si approcciano Ai vostri programmi Perché Per esempio Rispetto a quello Che ho iniziato io a fare Ormai quasi 20 anni fa Trovo ragazzi Di 27, 28, 29 anni Fanno una tipologia Di giornalismo Che molte volte È stupefacente È molto più rapido Fa un utilizzo del video Talmente veloce Che solo 15 anni fa Non si poteva immaginare Insomma portano delle cose Non è che Non è che imparano e basta Tantissimo Guarda Una delle giornate Dal mio punto di vista Più produttive Che ho avuto È stata quando Ho incontrato I giovani Che già avevamo in struttura Che hanno costituito Diverse community Si espansa sempre di più Hanno un loro gruppo Dove condividono esperienze E quel giorno Avevano Diversi di loro Che avevano lavorato in gruppo Mi hanno portato Diverse proposte Il fatto che Approcciano anche La professione Approcciano Diciamo Al nostro settore Con una mente più libera Quindi Senza i bias Di un'esperienza Fatta all'interno del settore Vedono aspetti Che magari non cogliamo Banalmente E diverse delle iniziative Che loro hanno proposto Le abbiamo messe in atto È arricchente Io questo appuntamento Ho deciso di mettere Un appuntamento fisso Quindi Regolarmente Li incontrerò Oggi Diciamo Dei quasi cento Quasi tutti Hanno aderito Hanno fatto Diverse community E porteranno progetti Che noi Realizzeremo E caleremo a terra Perché solo così Ascoltando Chi poi Porterà avanti La nostra professione Questa bellissima professione Il fatto di essere Un'infrastruttura È stato fantastico Come definizione Dobbiamo dare Loro L'opportunità Quando abbiamo Questo grandissimo dono Di Accogliere un giovane All'interno della nostra struttura E di farlo crescere Dobbiamo viverlo Come una grandissima opportunità Stiamo facendo del bene Al giovane Stiamo facendo del bene Alla nostra professione Al paese E all'educazione Io insisto spesso Su questo tema Che i giovani Non devono solo recepire Sono anche da subito Molto in grado di dare Basta essere aperti Anche ai contributi Federico Gerardini Zurich Bank Grazie Grazie È stato un piacere Corriamo veloce Siamo sostanzialmente Quasi alla fine Secondo me Maurice Franzoni Fisicamente è uno che corre È abituato Arriva da territori Dove bisogna ruzzare Per portarsi a casa Il pane Responsabile Financial World Banker Di Credem Un applauso Ciao Dario Ciao Dario È un piacere trovarti Anche quest'anno Allora Beh intanto Grazie per la pazienza Perché ormai sono due ore e mezza Ma infatti hai visto Che sto andando veloce Assolutamente No ma io penso Che finché è una giornata Che offre degli spunti E dei contenuti Poi il pranzo Può attendere Non troppo Ma può attendere Non troppo 12.38 Ci prendiamo ancora Non ti porterò via tanto tempo 15 minuti Parlami del rapporto Con la tecnologia E con l'intelligenza artificiale Abbiamo avuto sostanzialmente Uno dei grandi padri Nel vero senso della parola Pensatori In questo momento Del nostro paese L'altro è il sottosegretario Con la delega All'innovazione digitale Che è Butti E poi ci sono I tanti amministratori Delegati di società Che con l'intelligenza artificiale Lavorano per svilupparla Ma voi che cosa fate Come credete Guarda dopo chiederò Ben tanto Ribongiorno a tutti Dopo chiederò Il pezzo dell'intervista A padre Benanti Perché è stata illuminante Penso che In una frase Potrei dirti Seguire quello Che ci ha detto il padre Nel senso che L'intelligenza artificiale E tutto quello Che ne consegue Ormai è pervasiva Poi francamente Parto dalla fine Basta andare Al nostro stand Qui fuori E vedere Quello che è il claim Intelligenza naturale Che non vuol dire Essere contrapposti Al tema della I Anzi Ogni tanto Io la chiamo artigianale E mi piace Il fatto che possa esserci Ancora spazio Per quella artigianale Però nel vostro caso Come la intendete? Beh la intendiamo Che ho fatto Un semplice giochino Vai su CiaGPT E gli fai la domanda precisa Quale? E pensi che Il consulente finanziario In futuro Venga Possa essere sostituito Da una qualsiasi piattaforma Di intelligenza artificiale Provate Provate tutti Lo fate E la risposta è Da intelligenza artificiale Che è talmente intelligente Che ti dice Che non potrà mai Sostituirsi A un consulente finanziario Che ha due doti fantastiche Che sono l'empatia E la relazione col cliente Quindi Se lo dice lui È autoavverante Poi però Non dobbiamo Combatterla Come ha detto Padre Benanti Ma accompagnarla Guidarla Cavalcarla Ok In questa metafora Come gruppo Per esempio Sono tanti Gli episodi Che ci hanno già visto Cavalcare Questo tipo di Innovazione Inext Inext È un percorso progettuale Che facciamo In maniera Trasversale Su tutte le Realtà All'interno della banca Sia commerciali Che centrali Dove 350 Nostri colleghi All'interno anche Della consulenza finanziaria Verranno coinvolti Con un percorso Dove Tutti si confrontano In maniera Molto trasmersale Per capire Quali potranno essere Gli sviluppi Dedicati all'intelligenza Artificiale Un altro esempio Alla fine del 21 Tramite Credent Venture Capital Che è il nostro Fondo di Venture Capital Abbiamo acquisito Una partecipazione In una start up Di Seattle Se non ricordo male NUNAM Che ha sviluppato Un algoritmo Che aiuta I nostri Analisti Delle SGR Della società che abbiamo Di Euroobiliare SGR Per andare a fare La fund selection E acquisire In questo percorso Di acquisizione Di informazioni Un miglior quadro informativo Dedicato agli investimenti Ma Discutendo con te Anche prima di salire Su questo palco Voi ne fate anche Un utilizzo Diretto Rispetto anche Al rapporto Con i clienti Cioè Esatto Come la utilizzate Tu mi hai detto prima Per me L'intelligenza artificiale È una specie Di premasticatore Io non so Che cosa sia La premasticazione Ma so che aiuta La gestione Insegnavano Una volta le nonne Ma che cos'è La premasticazione È un fattore abilitante È un fattore abilitante Tu prima Se non ricordo male Hai usato copilota No? Sì Hai presente La situazione del rally Cioè tu puoi anche essere Quello che ti dà le curve Tu puoi anche essere Il fenomeno Il numero uno Ma se il tuo navigatore Ti sbaglia le note E tu centri la pianta Ok? Bene Lo vedo così in futuro Un abilitatore Un facilitatore Una piattaforma Che ci dà la possibilità Di fare meglio In maniera più efficiente Il nostro mestiere Uno dei fattori scarsi Che noi abbiamo Come consulenti finanziari È il tempo L'intelligenza artificiale La vedo fantastica In quella direzione Cioè un ottimizzatore Un ottimizzatore Un facilitatore Per esempio In tutto quello Che è il data management Tutti i dati Dei nostri clienti Per servire al meglio Perché poi Alla fine Il tema è Servire meglio Il cliente Non è abbattere i costi È servire meglio Il cliente E penso che tu Hai affrontato anche Nei passaggi prima Un tema delle nuove generazioni Che hanno Delle skills diverse Sì Sono più rapidi C'è poco da fare Sì E quindi sarà il futuro Imparare Noi per esempio Abbiamo un luogo fantastico Che è il nostro luogo Dell'innovazione Ufficina Cradem Che è un luogo storico Di Reggio Emilia Che abbiamo Diciamo Deputato Come luogo dell'innovazione All'interno del gruppo Anzi Faccio l'invito a tutti A te in primis Venite a trovarci Perché è un luogo Molto bello Aperto Dove tutti possono dare Il loro contributo In primis i giovani Perché su questo ambito Sul tema Dell'innovazione Loro sono i primi Noi facciamo Un evento Tutti gli anni L'abbiamo chiamato Innodei Dove Gran parte della rete Viene e porta Il suo contributo Senza rete Nel senso che Non c'è Un suggerimento Giusto o sbagliato Nell'innovazione C'è un contributo E tra l'altro Immagino che L'analisi Anche se vogliamo Attraverso L'analisi dei dati Dell'intelligenza artificiale Per quel che riguarda Il rapporto Con clienti Che possiamo definire Strutturati Complessi Che hanno delle aziende Che lavorano Con delle filiere Che hanno dei fornitori Che hanno mille aspetti Mille variabili Esogene Endogene Che intervengono In qualche modo Possa aiutare Anche voi A dare Quella Di cui parlavamo Prima La consulenza patrimoniale Una consulenza più Strutturata e complessiva E che forse Aiuta anche a chiarificare Un altro aspetto Che sottende A tutti Che è la remunerazione Guarda Il tema è centrale Ho sentito parlare Di consulenza patrimoniale Consulenza 360 gradi Beh C'è un segmento Di clientela Che a noi interessa Tantissimo Che è quello Degli imprenditori Al quale Il tema Dell'intelligenza artificiale E dell'innovazione Calza a fagiolo Perché lo fanno In primis Nella loro Attività quotidiana Stiamo sviluppando Anche noi Forme Di intelligenza artificiale Che ci aiutino A servire meglio L'imprenditore Perché ha Un ecosistema Che non riguarda Solo La parte verticale Della gestione Del proprio risparmio Ma Ha anche Altri Stakeholder Li chiamo così Quindi con i bravi All'interno Del suo panorama Quindi l'azienda Quindi i dipendenti Abbiamo sentito parlare prima La nostra è una funzione sociale Dei consulenti finanziari Ve l'ha ricordato anche il ministro L'ho detto anche l'anno scorso Una funzione quasi sociale E Mi ha fatto molto piacere Anche dal commissario Consum Sentire che Siamo Un'infrastruttura Vero Siamo un'impalcatura portante Di questo paese Nei confronti dei clienti Quindi L'azienda I dipendenti La famiglia La compagine sociale I clienti I fornitori Bene Questa è una nostra missione Chiudiamo In 30 secondi Mi dici Tu che ne fai tanta Quanta strada Vedi davanti Non so quanta La vedo bene La vedo bene Se riusciremo Ad avere Quell'apertura mentale Che ho sentito oggi Io quando vengo A consulenza E non lo dico Per piageria Torno a casa Torno a casa Con tanta forza In più Perché Mi sento addosso La responsabilità Di guidare una rete Di persone Che fanno Questo tipo di mestiere Con quel criterio E sono molto carico Un applauso Maurice Franzoni Grazie Ciao Dario Mi piace Sono molto carico Mi piace Due speaker Siamo quasi alla fine Poi vorrei fare Una piccola chiusura Circolare Paolo Di Grazia Vice direttore generale Responsabile Global Business Di Fineco Ciao Paolo Ciao Dario Tra poco Sarei quasi Per chiedervi Un po' di acqua Perché Non sono artificiale Da questo punto di vista Paolo Di Grazia Lavora In una banca Che è digitale Dalla nascita Siete nati In qualche modo Digitali Tu rispetto al tema Della rete Hai una responsabilità Un po' diversa Permettimi di dire Tu sostanzialmente Dato che abbiamo usato La metafora automobilistica Praticamente Tutta la giornata Rispetto allo sviluppo Della vostra realtà Aziendale Tu sei quasi Il capo ingegnere Quello che ha messo insieme L'infrastruttura Sulla quale poi Lavorano Lavora La vostra rete Lavorate sui clienti La tecnologia Per voi È un fattore Voi siete data driven Siete tecnologici Dall'inizio Ed è un fattore Abilitante Da subito È così Questa Hai descritto benissimo Il mio ruolo Fin dall'inizio Nella banca Infineco A dire la verità Non sono mai stato Un consulente E forse È stato Per certi versi Questo L'aspetto Che ha dato Più valore aggiunto Perché osservando Dall'esterno Il mondo Della consulenza Si possono Tirare delle conclusioni Anche diverse Da quelle che Magari puoi tirare E stanno dentro E questo ha portato Tantissime Prima di tutto Ho imparato tantissimo In questi 20 Ormai 5 anni Ho imparato Tantissimo Dalla vicinanza Al mondo Della consulenza E ho capito Quasi subito Devo dire Che il grande Il grande valore Della tecnologia Non era tanto La tecnologia Rivolta al cliente finale Ma la tecnologia Offerta ai consulenti Finanziari Questo è il vero Fattore abilitante Senti Sei abituato A guardare lontano Naturalmente Perché tutti Conoscono La storia Di Fin e Sanno come è partita Sanno come evolve Però forse La domanda difficile In questo caso È Quanto spazio c'è Per innovare Ancora Perché uno potrebbe dire Beh insomma La grande porzione Di pista Ormai l'abbiamo percorsa Non manca poi molto Invece Ma allora Io qua Non voglio dare un messaggio Presuntuoso E mi metto dentro Anch'io In questa In questa analisi Che faccio Anch'io come banca Dico Come piattaforma C'è uno spazio enorme Per innovare Proprio per il motivo Che dicevo prima Ci siamo forse Concentrati Troppo A dare il servizio Al cliente finale O meglio Adesso Il servizio Che ha il cliente finale È molto buono Tendenzialmente Mediamente È molto buono Non tutti Danno un servizio Buono Però Tendenzialmente È molto buono Se guardiamo Anche a livello europeo Quello che si vede È che Ci sono delle Bellissime Come dire Offerte Digitali Per il cliente finale Che danno un'esperienza Di utilizzo Veramente Pazzesca Veramente Superiore Al cliente finale Poi però sappiamo Che tecnologia Senza Senza uomo Senza consulente Almeno nel mondo Degli investimenti È uguale A zero volumi Non è una strada Percorribile Io faccio sempre L'esempio Del medico Quando si ha bisogno Di qualcuno Perché si ha un problema Grave O leggero Di salute Tu vuoi avere davanti Un professionista Vuoi avere davanti Qualcuno Con il quale dialogare E la stessa cosa È valida E sempre di più Se sono tanti soldi Da investire Quando Si deve investire Appunto Tu hai bisogno Di dialogare Con qualcuno Soprattutto nei momenti Delicati Quando i mercati O vanno troppo bene Perché anche quello È un rischio O vanno troppo male Altro rischio Enorme Quindi Tutti quanti Si sono dedicati Al cliente finale Ma nessuno Si è dedicato Ancora Veramente A dare la tecnologia Ai consulenti Perché Io penso Cosa dobbiamo copiare Dalle best practices europee Non ci sono Le best practices europee Non ci sono Io sto studiando La Germania Alla Francia Alla Spagna L'Inghilterra È già un po' più avanti Ma non ci sono best practices Sono tutti concentrati Sul cliente finale Non c'è ancora nessuno Che ha capito Secondo me Probabilmente Velocemente Lo capiranno Perché non penso Di essere L'unica persona Al mondo A aver capito Questa cosa qua Che il vero Fattore abilitante È dedicarsi Al consulente finanziario In maniera tale Che abbia un'esperienza Di utilizzo Uguale a quella Del cliente finale E siamo ancora Lontani da questo In questo senso Ti chiedo di interpretare Prima l'avevamo visti Anche con te Dei numeri Se la regia li ha bene Se non fa niente Quello che La suggestione Che arrivava anche Da volpato E cioè Il fatto che Negli Stati Uniti Sostanzialmente La consulenza finanziaria Abbraccia Moltissime famiglie In più Negli ultimi 10-15 anni La ricchezza Finanziaria Delle famiglie americane Si è moltiplicata E questo Si lega un po' Al discorso Delle best practices Anglosassoni In questo caso Che diversità Tecnologica C'è Nell'offerta Quando guardiamo Agli Stati Uniti E in parte Anche Alla UK Quindi alla Gran Bretagna Quello che si vede È sempre un po' Quale potrebbe essere Non quale sarà Quale potrebbe essere Il nostro futuro E questi dati Sono abbastanza Impressionanti Noi vediamo che Appunto La differenza La crescita Della ricchezza Degli italiani Rispetto a quella Degli americani Poi si possono prendere Diversi Time frame Questo qui è un time frame Che va dal 16 al 22 Però è notevole Si passa da un 18% A un 50% Gli Stati Uniti Questo è soltanto Soltanto Cultura finanziaria Non c'è altro È soltanto Che gli americani Fin da quando è nato Il mercato dei capitali I stock markets Investono in azioni E lo fanno da sempre Questo è Quello che È la differenza vera Ci arriveremo A livello americano Forse no Forse fra tantissimi anni Però ci fa vedere la strada Questa è la strada E l'ultima cosa Naturalmente Hai un'impronta Tecnologica forte Lo dice la tua storia Come dicevamo prima Di capo ingegnere Rispetto alla Formazione E la crescita Di Fineco L'intelligenza artificiale Che strada Ancora Che strada può fare Cioè ancora Ne parliamo da un anno Poi negli ultimi sei mesi Siamo impazziti Perché è immanente È dappertutto E quindi bisogna parlarne Ed è giusto parlarne Però che cosa vedi in più La mia impressione È che Parlare di intelligenza artificiale Appunto E poi non capire I salti tecnologici E avere delle piattaforme Che sono arretrate Significa mettere qualcosa Di fichissimo Su una macchina Che ha il motore Semiruoto Hai colto il punto Il punto al 100% Prima bisogna sistemare Le piattaforme Poi In maniera tale Che sappiano Recepire L'intelligenza artificiale Poi l'intelligenza artificiale Può essere Una notevole spinta Di aiuto Al consulente Per Miriade Una miriade di cose Però la cosa importante È che ormai Io sento parlare Si parla dell'intelligenza artificiale Come se tutto il resto Ormai fosse sistemato L'intelligenza artificiale È l'ultimo miglio È il corollario Le 25 miglia precedenti Devono essere Corse E bene anche Altrimenti L'intelligenza artificiale Non serve a nulla Però perdonami Questo allora È anche un tema Di cultura interna Delle organizzazioni No? Certo La tecnologia Non è che si può Solamente spiegare Qua siamo tutti professori Siamo tutti dottori Però all'interno Delle aziende Bisogna anche far capire All'organigramma Che cosa si può fare Come si può implementare È un tema È un tema di cultura Di approccio Ovviamente Se ci sei nato È più facile Se sei una banca Tradizionale È più difficile Però Come dire Ci si può arrivare Nel tempo Chi più chi meno Però questo è il focus L'intelligenza artificiale È un ottimo acceleratore Che però deve andare Su qualcosa Che funziona E funziona molto bene Altrimenti È totalmente inutile Ce n'è di strada da fare Assolutamente Paolo Di Grazia Vice direttore generale Fineco Ciao Fabio Siamo all'ultimo intervento Del resto Fabio Cubelli L'anno scorso È salito tra i primi Sul palco E quindi Fa la grande Chiusura Con direttore generale Fideuram Intesa San Paolo Private Banking Ciao Dario Di cosa è rimasto Da parlare Di calcio e di cibo Sono preparato Su quasi Entrambi Anche se negli ultimi giorni Di calcio Si è andati su derive Antipatiche Quindi cultura Ce ne sarebbe da buttare dentro Il team Il team Il team La prendo un po' da lontano Perché abbiamo visto un sacco di numeri A me piace portarne qualcun altro Allora Negli ultimi 4 anni Il nostro mondo Il mondo della consulenza finanziaria È cresciuto Del 27% Siccome i mercati Non è che ci abbiano dato Tutta sta mano È stata essenzialmente Una crescita Di nuova raccolta Quindi Si continua a crescere Il numero dei consulenti finanziari Largo circa È uguale Che vuol dire Che aumenta Il patrimonio Il portafoglio Gestito da ogni consulente E se aumenta questo E aumenta il numero dei clienti Mediamente Ognuno di voi Ha 215 clienti Numeri medi Anasf Assoretti 215 clienti In aumento Allora Qual è il punto? Intanto che si può crescere No? Abbiamo visto prima una bella slide Che dice che Abbiamo il 20% di quota di mercato Vuol dire Che possiamo ancora Conquistare l'80 Ce n'è di ciccia Da aggredire In senso positivo Assolutamente sì Come si fa a crescere? Ecco Qui parlo Una platea di imprenditori Una platea di imprenditori Vuole crescere Il team È una bella risposta Per crescere Tra l'altro Il team Qui è stato presentato Molto in ottica generazionale Bello Utilissimo Verissimo Ma non è solo quello Il team è estremamente versatile Noi abbiamo 2000 consulenti in team E 2300 team Che detto così Avete più team di consulenti Sì perché Perché non è detto Che un consulente Abbia un solo team È difficile da capire No perché non è detto Che il consulente Faccia un solo team Un consulente Può fare un team Con un altro consulente Che è specializzato In aziende O in temi fiscali O in passaggi successori Ce n'è di tutti i tipi Poi è chiaro che ci sono dei team Fatemi dire un po' più solidi Che vanno su tutta la clientela E ci sono altri team Che riguardano 10, 15, 20 clienti Magari più verticali Esatto Molto più Molto più verticali Piuttosto che orizzontali Però vediamola anche Da un altro punto di vista Vediamola dal punto di vista Del cliente Cioè per il cliente È un grande vantaggio Avere non un singolo Consulente finanziario Che ti dà una mano Ma averne più di uno Diverse professionalità Diverse anche opzioni di contatto Noi abbiamo un programma Che sta trasformando Molte delle assistenti Dipendenti dei consulenti finanziari Su base volontaria In consulenti finanziari In team Con lo stesso consulente Di cui erano assistenti Una crescita anche Una crescita E anche un'opzione in più Per il cliente Perché di fronte Si trova una persona Abilitata all'albo Che può dare una serie Di servizi in più Ne parlavamo prima Anche con Paolo Di Grazia Parlavamo di tecnologia Di best practices All'estero Abbiamo capito Che forse il mondo Anglosassone È quello un po' più avanti Da quel punto di vista Dal punto di vista Anche dei team Della gestione Della professionalità Di consulenti finanziari All'estero Che cosa si può guardare Qui non è tanto Tutto il mondo Anglosassone Quanto agli Stati Uniti Perché in realtà In Inghilterra Questo modello Non è che sia Così affermato E anche se lo fosse stato Con l'RDR Sarebbe comunque Sarebbe comunque morto Negli Stati Uniti Sì Negli Stati Uniti Dove Mediamente Un consulente finanziario A 250 milioni Di portafoglio Quindi più o meno Per 10 I nostri numeri E l'utilizzo dei team È diffusissimo Ma sono delle aziende Nelle aziende Si arriva ad avere Team di 25 persone Così come ci sono Dei team di 3 persone Di nuovo Essendo su base volontaria Qui ognuno Sceglie Quello che fitta Con la propria attività Il tema della fiducia Però no Ne abbiamo parlato Anche qui Cerco di cambiare Un po' Prospettiva La fiducia si costruisce Per relazione personale In questo caso Immagino Che sarà per relazione Pluripersonale Se è un team Un cliente Può trovarsi di fronte Due o tre Perfezionalità Una volta una Una volta l'altra Questo implica Che ci sia bisogno Di un po' più di tempo Per strutturare Oppure no C'è bisogno di molto tempo C'è bisogno di sinergia C'è bisogno di feeling Tra le persone Indubbiamente Adesso non Non vediamo tutto Sempre dal bicchiere Mezzo pieno Ci sono anche resistenze Verso il tema dei team Perché? E io le capisco Perché Tendenzialmente Questa alla nostra È una professione Che è nata In maniera molto individualista Io gestisco il cliente Io gestisco il portafoglio Il cliente è il mio patrimonio Allora Dividerlo con qualcuno Deve essere veramente qualcuno Di cui mi fido Questo è il motivo Per cui Uno dei team Di più successo È quello verticale Generazionale Perché è chiaro Che inserire un giovane I primi team Che sono nati Quali sono? Padre e figlio Quello che Ruta Ha incontrato stamattina In albergo È il primo tipo Di team che è nato Però Noi diamo anche tutele Da questo punto di vista Cioè anche contrattualmente Siccome esiste un contratto Che regola Il rapporto Tra gli aderenti al team Ci sono delle tutele C'è anche un patto Per cui non ci si può rubare In nessun modo La clientela Ci sono una serie di penali Quindi bisogna assistere Anche la crescita Dei team Cercando di garantire Quella che è la natura Del nostro lavoro Quindi il rapporto Con il cliente E il patrimonio Credo che sia anche un tema Culturale di crescita Come dicevi Della fiducia interna Perché se appunto Un consulente senior È stato abituato Per 20-25 anni A lavorare da solo Dopodiché Anche un po' complicato Forse come formamenti Come qualche bias A lavorare con più persone Ma con i giovani Quindi quello team generazionale Con i giovani Sicuramente più semplice Come tutte le cose Comporta degli investimenti aziendali Cioè da questo punto di vista L'azienda deve investire Deve investire Anche dal punto di vista Del coinvolgimento Dalle persone Ad esempio penso Al coinvolgimento Dei manager I manager Devono avere un livello D'attenzione E una modalità di gestione Dei rapporti in team Che è diverso Rispetto a quello Del singolo consulente finanziario Perché comunque Quel tema che si diceva Prima delle tutele Deve essere diffuso In tutta l'azienda Poi è chiaro che Essendo una cosa Che dà un boost A livello di crescita Anche dal punto di vista Degli economics Dà dei ritorni Non indifferenti L'ultima domanda Mancano cinque secondi Se è anche l'ultimo Degli interventi Di voi A capo Delle reti Nessuno si è voluto Sbilanciare Mi sembra di capire Di che cosa vede Da qui a cinque anni Però La professione Come la vedi A consulenza A consulenza 28 Cambio completamente Tema Non parlo più di team Torno a un tema Che era stato affrontato Prima con Conviscanti Credo Io sono convinto Che passiamo sempre di più Da un tema Di offerta di prodotti Verso un tema Di offerta Di servizio Di consulenza Dietro a questo Semplici assunto Ci sono Tutta una serie Di considerazioni In termini di Modalità di approccio Della clientela Modalità di gestione Trasparenza Nei rapporti Con la clientela Che sono convinto Favoriranno La nostra industria Perché noi Da questo punto di vista Siamo molto più avanti Rispetto ad altri modelli Però prepariamoci A un cambiamento Sarà un cambiamento Forte Che avvenga per legge Perché Ci sarà La retail Investment Strategy Di turno O che avvenga Per una maturazione Culturale Quello succede Poi se succede In tre anni O in cinque anni Nelle prossime edizioni Di consulenza Lo sapremo Fabio Cubelli Un applauso Grazie Grazie anche a te Grazie Allora Luigi Conte C'è ancora Eccoti qua Volevo fare Una piccola Una piccola Chiusura circolare Poi potete andare Tutti a mangiare Dopodiché ci sarà Il proseguo Naturalmente Della giornata Ci sono ancora Tante sessioni verticali Ancora Tanti temi verticali Che potete Affrontare insieme Con Luigi Conte Naturalmente In qualche modo Ci condividiamo La passione Per la finanza In questo caso Ma anche per il calcio Ha una grande esperienza Anche in quel settore E nel tuo discorso Tieni Nel tuo discorso Nella parte finale Soprattutto Mi è molto piaciuto Ha acquisito Una vis Quasi da spogliatoio Quando tra prima e secondo tempo Devi un po' Cambiare passo Perché magari Sei sotto di un gol Perché c'è bisogno Della grinta Di Morris Franzoni Che dice Io me ne vado via Da consulenza Che ho la grinta addosso L'adrenalina addosso Era un po' il senso Che volevate Perché la relazione Di tutti Veicolare Sì Non siamo sotto di un gol Per dirla Chiaramente Anzi Devo dire Che siamo parecchio avanti Dovete mantenere il vantaggio Ma proprio In questo senso Bisogna aumentare il vantaggio Cercare tutti insieme Di creare le condizioni Per essere sempre più Motore centrale In tutto questo grande ingranaggio Ma voglio dire Guardiamo con attenzione Anche i simboli Che ci hanno accompagnato E ci accompagneranno Anche domani Non sono banali Il dinamismo La leadership La visione Dell'Aquila Che è uno degli elementi Importanti Diciamo il lupo Che dà quella sicurezza Quel patrimonio di sicurezza Che non è scontato Nelle organizzazioni Perché purtroppo Non è scontato Negli uomini E allora Direi che Quello che abbiamo ascoltato Ecco mi dici Che cosa ti porti Personamente a casa Delle reti Di che cosa hai ascoltato Ci conferma Che la strada tracciata È quella giusta Ci conferma Che il lavoro di squadra È un lavoro Che può portare Ad una vera Innovazione In un momento In cui l'innovazione Arriverà a prescindere Ed è importante Quello che è stato già detto Non subire il cambiamento Ma guidarlo Sapere Ed essere in grado Attraverso queste Quattro prospettive Che sono prospettive Secondo noi Significative Anzi un grazie a tutti A tutti coloro i quali Nell'organizzazione Il comitato esecutivo Il responsabile del marketing Sarace Tutti hanno avuto La stessa Lo stesso orientamento Nel far comprendere Che queste prospettive Sono le prospettive Che ci devono accompagnare Per il prossimo futuro Ed è lì che nel 2027 Quando festeggieremo 50 anni di Anas Probabilmente racconteremo Di una professione Ben più evoluta 15-30 secondi Oggi pomeriggio E poi domani Come chiudete Ci saranno gli eventi Che porteranno Innanzitutto Quelli dei partner Che porteranno Tanta testimonianza In maniera molto ampia Ma ancora più Gli eventi di domani Che tratteranno I temi di cui Abbiamo parlato oggi Quindi Diciamo Politiche di genere Quindi Le attività Che stiamo svolgendo Rispetto a questo tema I giovani E quanto Per i giovani Anas E non soltanto Anas fa E poi naturalmente L'educazione finanziaria Che è il tema Dei temi E il tema Che porterà Nel futuro Remoto Probabilmente Questo paese A poter essere Un faro Una guida In un consesso Che secondo me Si sta muovendo In maniera molto Opportuna Grazie Allora Non ti saluto Fatevi un applauso A voi Consulenti finanziari Grazie a tutti Buona consulenza 24 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti